Buongiorno a tutti, scrivetemi un po' in chat se mi vedete e se mi sentite così aspettiamo che arrivino magari altre persone, ma poi ovviamente iniziamo perché abbiamo un po' di argomenti dei quali parlare perché non parleremo solo ovviamente di bilanci ma cercheremo di parlare anche di altro, soprattutto la seconda parte di questa live vorrei che fosse dedicata alle vostre domande perché molto spesso non riusciamo a interagire come dovremmo perché comunque io sono molto impegnato e quando mi sentite dire la solita lagna che sono uno dei pochi che fa trading, forma trader e comunque va in tv e ha anche un canale YouTube ovviamente mi riferisco proprio a questo perché comunque manca sempre il tempo però voi dovete continuare a scrivermi sempre nei commenti perché io cerco di leggere e di rispondere a tutti poi per argomenti specifici è sempre possibile scrivermi via mail a info chiocciola andrea cartisano punto it io credo di essere uno dei pochi in questo settore che non ha problemi anche a chiamare direttamente le persone per cui mi agevolereste il compito se per esempio mi lasciaste anche un recapito telefonico quando mi scrivete una mail se volete parlare di corsi di formazione che l'anno prossimo inizierò magari a fare se volete parlare dell'apertura di un conto trading per entrare nel mio ristretto novero di allievi anche qui potete farlo poi non è detto non è necessario che facciamo qualcosa assieme perché fortunatamente il lavoro non mi manca però ovviamente se mi lasciate un recapito mi agevolate ovviamente perché mi fate risparmiare tempo e vi invito anche a scrivermi via mail se volete chiedere l'analisi di un titolo troppo piccolo perché un titolo troppo piccolo eh fatto eh su youtube potrebbe ovviamente eh creare qualche problema anche se non vi nascondo che eh prossimamente eh vorrei introdurre una sezione del canale eh in cui parlerò dei titoli che secondo me a livello di fondamentali sono sottovalutati e possono essere un'occasione di investimento anche per il medio eh e lungo eh periodo. Comunque eh siccome eh sono le tre io direi che possiamo iniziare poi intanto il video lo caricherò sul canale eh inizieremo come due sabati fa eh con il sottoscritto che eh riassumerà il video di ieri e eh vi racconterà magari eh qualche curiosità eh legata eh legata proprio all'analisi fondamentale perché partiamo da un presupposto eh come si eh legge il bilancio di una società quotata eh eh è sinonimo di analisi fondamentale l'analisi fondamentale è secondo me uno dei due aspetti fondamentali per chi eh vuole fare trading e cercare ovviamente di essere profittevole eh l'analisi fondamentale eh ci definisce quanto una società sia a sconto eh oppure sia correttamente valutata o addirittura sopravvalutata. Secondo parametri ben definiti. Ecco su questi parametri eh si potrebbe anche discutere per carità nel senso che non necessariamente eh sono secondo me scolpiti nella pietra. Lo sono per la comunità finanziaria ma vale un po' come io faccio sempre esempio del deficit PIL il il Maastricht no? Il tre per cento. Chi dice che il tre per cento è un valore corretto e non lo è il cinque o sarebbe stato meglio il due? Io rimasi sconvolto quando un grande burocrate dell'Europa eh interrogato su questo tre per cento disse ma ci piaceva il tre per cento. Ecco siamo a questi livelli qui. L'analisi fondamentale però eh ci fa capire se la società sulla quale stiamo investendo è una società che merita eh che noi rimaniamo in posizione sulla stessa anche per un periodo medio lungo. La differenza che c'è tra un trader intraday e un value trader è che il trader intraday può comprare e vendere anche delle società che sono eh messe in condizioni eh molto scusate che saluto Jordan perché è nostro capo ultra poi ovviamente un caro saluto a tutti eh però eh Jordan se mancava eh sarei andato a mangiarmi la sua colazione non dico dove però so anche dove abita. Eh e dicevamo che eh la eh l'analisi fondamentale eh comunque ci fa capire se una società merita eh che noi eh possiamo eh essere investiti anche per un tempo medio lungo senza correre dei grossi rischi. Il trader intraday invece eh compra addirittura delle società che potrebbero anche fallire da lì a poche settimane. È già capitato tante volte eh che eh una società sulla quale anch'io tradavo abitualmente poi è fallita e quindi l'analisi fondamentale deve aiutarci a evitare che queste cose accadano. Eh l'analisi tecnica invece eh ci deve dare il timing. Anche qui eh sento sempre perché il più citato è ovviamente Warren Buffett che non è importante il timing in cui si entra eh su un titolo in borsa. Io non sono d'accordo per un semplice motivo perché o hai il capitale che ha Warren Buffett e hai tutto il tempo di questo mondo ma se hai dieci, venti, cinquanta, centomila euro è fondamentale il timing il momento in cui tu entri sul mercato perché se fossimo entrati sul mercato a eh fine eh duemila e ventuno inizio duemila e ventidue avremmo del molte posizioni che sono ancora in sofferenza. Ok? Quindi quello che intendo dire io è che se non abbiamo dei capitali infiniti purtroppo è eh è decisamente importante il momento in cui entriamo sul mercato e questo ce lo dice l'analisi tecnica. Quello che vi ho detto eh ieri già nel video che ho caricato eh riguardo a come sfruttare pochi parametri eh di eh un bilancio per poter valutare la bontà o meno della società ve lo ribadisco oggi. Eh fatturato, ebidà, ebit, utile netto, posizione finanziaria netta, patrimonio netto. Eh ci sono mille altre variabili però eh quello che purtroppo viene eccessivamente utilizzato da parte delle società quotate in questa fase è la parolina magica quasi oserei dire che è adjusted cioè sostanzialmente eh non ci sono dei valori che sono eh diciamo lineari come dire non ci sono stati incenti di percorso c'è qualcosa che nel momento della redazione del bilancio nel bilancio può essere rischio cambio può essere ovviamente magari una eh marginalità eh momentanea minore per cui non è ricorrente e a me l'adjusted non piace eh perché per me è sempre un qualcosa di alterato da parte della società per normalmente anche abbellire eh il bilancio. Poi un altro aspetto che io fossi in Borsa Italia e in Consum in in Banca d'Italia che obbligherei le società quotate è a rendere eh i eh dati eh del primo trimestre del terzo trimestre eh assolutamente obbligatori nella loro integrità perché molte società mi viene in mente anche una Brunello Cucinelli una Moncler rilasciano i propri dati solo eh limitatamente al fatturato questo nel primo trimestre e nel terzo trimestre dell'anno eh la ehm conseguenzialità di cui vi ho parlato in cui il fatturato deve essere maggiore delle abilità a sua volta maggiore dell'ebito a sua volta maggiore dell'utinetto è secondo me eh fondamentale perché è la linearità che ogni società quotata dovrebbe eh seguire perché se io come vi spiegavo è giusto che possa avere un EBITDA di venti un EBIT di dieci e un utile netto di cinque questo è un bilancio normale del quale ci possiamo fidare se ci sono delle voci particolari anche se e li ringrazio non so se sono collegati oggi due iscritti al canale mi hanno un po' tirato le orecchie perché non sono stato preciso al cento per cento io lo dico chiaramente sono un autodidatta eh non ho studiato economia e commercio a a vent'anni avevo un albergo con quindici dipendenti che peraltro fatturava un miliardo e mezzo quindi non ero proprio un cretino e lo scopo del mio video non voleva essere quello di sostituire un ehm commercialista un professore universitario un revisore contabile io volevo solo far capire quello che utilizzo io per valutare una società e cercare di far sì che lo poteste fare anche voi per semplificarvi un po' la vita per cui effettivamente ci possono essere delle situazioni limite dove abbiamo un utile netto superiore all'ebit e all'ebitda però effettivamente eh la normalità dovrebbe essere che l'utile netto è la voce di importo ovviamente più basso perché dal fatturato all'utile netto passano tutta una serie di azioni che sono ovviamente i costi che sono la tassazione che sono le spese per il personale eccetera 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 e ovviamente eh una società che presenta un bilancio cristallino dal mio punto di vista deve avere un utile netto che è la voce con l'importo più eh eh basso eh rispetto ovviamente al fatturato le bidda e lebit poi riguardo ai eh valori che vengono per quanto riguarda le domande per cortesia non fatele adesso perché se no non riesco a leggerle aspettate che io finisca e eh poi eh ovviamente eh risponderò a tutti tempo ne abbiamo eh non dobbiamo non abbiamo l'orologio puntato che tra un'ora finiamo però eh se no è difficile eh che io riesca a star dietro a tutto e vorrei dare una linearità almeno in premessa poi veniamo ai parametri quelli standard come vi ho detto ehm eh non ve ne ho parlato ieri nel video perché secondo me i bilanci più difficili da analizzare sono quelli delle banche perché le banche comunque eh hanno tantissimi eh fattori eh che non sono limitati a ricavi ebida ebitudine netto ma hanno margine di intermediazione hanno ovviamente poi il chat one come eh le assicurazioni non solvency ratio eh per e poi a me non piacciono tendenzialmente i bilanci delle banche perché comunque mettono sempre eh gli NPL un po' dove vogliono cioè l'aveva confermato anche Castagna in un'intervista eh a Class poi tra l'altro hanno chiamato l'ufficio stampa di eh Banco BPM ha chiamato eh Emerick per dire che io eh avevo fatto una affermazione eh non condivisa da eh Banco BPM era un io ho citato un'intervista a Castagna che diceva guardate che i bilanci duemila e ventuno sono eccezionali perché abbiamo potuto posticipare l'iscrizione a bilancio degli N di di tutta una serie di NPL però veniamo a al titolo industriale di cui parlavamo ieri il eh diciamo ehm lo standard è che quindici volte gli utili sia il fair value la valutazione corretta per un titolo industriale quotato poi cosa può succedere che nel mercato duemila e ventuno questo quindici volte ehm eh gli utili posta in realtà eh essere diventato anche venticin anche trenta se eh vedete il mio video eh di qualche anno fa eh che ho fatto a un investor eh lo trovate in rete le mie previsioni anche lì era il duemila e diciassette si sono avverate quasi tutte perché parlo di Datalogic come di un'ottima società ma di una società ultracara tant'è che era arrivata a valere più di trenta euro per azione e adesso vale eh molto meno di dieci perché perché pur essendo una buona società il mercato era arrivata a pagarla quaranta volte gli utili quindi quando noi compriamo una società anche se l'analisi tecnica ci fornisce il timing dobbiamo fare molta attenzione a eh quanto è valutata sui multipli per cui il parametro più utilizzato è il price earning che è la capitalizzazione eh rispetto fratto diciamo diviso gli utili e eh l'altro aspetto che eh guarda molto il mercato è ovviamente il discorso legato al debito allora anche qui è una consuetudine la posizione finanziaria netta di solito quando è scritto pfn 100 milioni significa debito di 100 milioni come vi ho spiegato ieri nel video quando è pfn con un meno davanti tendenzialmente quel meno davanti significa che la società ha cassa ok in quest'ultimo periodo parlo degli ultimi sei mesi e adesso ovviamente gli ultimi nove mesi molte società vi faccio l'esempio più clamoroso che è De Longhi hanno bruciato tantissimo la loro cassa tant'è che De Longhi da 400 milioni esatto Frank eh P in Europa e EPS negli Stati Uniti che è utile per azione e ovviamente bisogna tenere molto conto di questo fattore soprattutto se eh la società in questione De Longhi che è andata da quattrocento milioni quasi a zero di cassa continuerà a perdere soldi anche eh eh nel nell'ultimo trimestre poi eventualmente a inizio duemila e ventre poi ci sono i casi opposti come Danieri che è una società che ha una cassa incredibile e che oggi in borsa vale più poco più della cassa pur facendo duecento milioni di utile netto l'altro parametro che viene ovviamente tenuto in questo caso in considerazione non è il debito fine a se stesso ma il debito rispetto alle bidda diciamo che società che hanno un un diciamo valore da cinque o superiore debito fratto e bidda sono considerate società diciamo a rischio eh però ci sono anche qui le eccezioni perché Telecom ha più debito di quanto fattura eh però eh se ci pensate oggi Telecom è ancora una società che è vero che il piano Mierva sta eh soffrendo sta rallentando nella propria esecuzione però potrebbe tranquillamente esserci un'operazione straordinaria a 30 cent e noi essendo in posizione avere un ritorno del eh 40 per cento in poche settimane se non pochi mesi però qui che cos'è che bisogna spiegare? Che cosa è successo su Telecom? Cioè io perché penso di essere rimodestamente un eh divulgatore eh finanziario a 360 gradi perché come vi dicevo due sabati fa io conosco non come alcuni personaggi che ne hanno fatto parte ci mancherebbe del mercato le grida ma tutti i più grandi attori della borsa italiana a partire dall'immediato dopo guerra ad oggi Brusadelli Aldo Ravelli Anna Bolchini Bonomi Michele Sindona Michelangelo Virgilito e ovviamente questo fa sì che ovviamente eh una persona cerchi di aumentare il proprio bagaglio culturale e capisca che magari Telecom era effettivamente un gioiello e purtroppo hanno permesso che questo gioiello non lo fosse più e mi riferisco ovviamente alle due operazioni di leverage buyout la prima di Colannino la seconda di Tronchetti Provera dove sostanzialmente senza soldi perché si sono fatti fare un debito un prestito eh bancario che ha fatto ovviamente poi esplodere il debito di Telecom perché hanno creato delle società vuote l'ha fatto anche la famiglia Benetton con schema 28 e Autostrade per l'Italia venivano create delle holding vuote dove eh arrivava questo finanziamento da parte del sistema bancario venivano eh eh comprate queste società in questo caso Autostrade e Telecom e poi fusa la holding con eh Telecom o con Autostrade e il debito scaricato ovviamente nella società e per quello che Telecom ha un debito così alto perché è stato fatto due volte in dieci anni ok poi logicamente bisogna anche tenere conto del fatto che eh certe volte come vi spiegavo nel video di ieri il mercato è disposto ad attribuire dei multipli maggiori a determinati settori perché un titolo che appartiene al settore moda eh il mercato lo può pagare anche 25-30 volte gli utili Brunello Cucinelli lo sta pagando 40 volte gli utili Hermes probabilmente siamo ancora sopra 50 volte gli utili e la stessa cosa avviene tendenzialmente per il settore tecnologico perché ha sempre avuto dei multipli storicamente molto più alti però qui eh dobbiamo anche affrontare un altro tema che è quello del della eh non eh totale affidabilità dell'analisi fondamentale perché purtroppo noi leggiamo quello che le società eh scrivono sui bilanci e non sempre la storia l'ha dimostrato quello che le società scrivono corrisponde al vero eh vorrei partire oggi con un esempio abbastanza significativo che tra l'altro è di una società che aveva la sede a pochi chilometri io segno la se così sono tre chilometri cinque forse la Bion no io non voglio autocelebrarmi ma sono stato il primo in Italia eh a eh sollevare dei dubbi su Bion molto prima di Quintencential eh ma per un semplice motivo perché il bilancio era bellissimo però io mi sono posto due dubbi che sono questi che erano erano stati questi primo Astorri e Cicognani non hanno esercitato centinaia di milioni eh di migliaia di Warren che avrebbero garantito loro un guadagno di decine di milioni di euro prima obiezione io poi come sapete sono un esperto di Warren per cui avrei sicuramente eh esercitato però a a posteriori capisco perché non hanno esercitato sapevano di non avere niente in mano per cui avevano paura che dovevano ovviamente metterci dei soldi anche loro perché quando eserciti di Warren metti dei soldi investi dei soldi e sapevano che investivano in nulla poi eh l'altro aspetto che mi ha lasciato subito eh un po' eh perplesso è che quando il titolo è arrivato a eh capitalizzare eh più di un miliardo eh di euro è rimasto online allora io dico ma porca miseria diventi un colosso un unicorno come si chiama non hai l'ambizione di andare almeno nel segmento star perché non sono andati nel segmento star perché il segmento star è un segmento ad alti requisiti che significa che devi certificare i bilanci sei in un sottoposto ovviamente ai controlli che nell'AIM sono molto più diciamo eh permissivi e soprattutto hai bisogno di chiudere il bilancio sempre inutile hai bisogno di avere un investor letter insomma ci sono tante eh caratteristiche che devi rispettare e Bion probabilmente non era in grado di rispettare poi è arrivato a quintessential ed è successo quello che è successo in poche parole anche lì chi ha avuto la fortuna eh di poter eh eh accedere all'informativa di Bloomberg è andato short il giorno in cui è uscita la notizia ehm ho amici che si sono pagati anni di abbonamento Bloomberg grazie a essere andati short eh su Bion e oggi eh è andato all'asta eh lo stabilimento qui vicino a dove l'ufficio eh ovviamente i creditori prenderanno soprattutto quelli che erano investiti nel titolo poco o nulla secondo me perché anche lì ci sono i creditori privilegiati e quelli ehm eh diciamo eh chirografari i privilegiati ovviamente di solito sono indipendenti magari l'IMS l'INAIL eh i fornitori eh mentre eh gli azionisti sono sicuramente chirografari ehm però eh quello che volevo eh trasmettervi come eh mia esperienza è che eh l'analisi fondamentale da sola non funziona perché e parliamo in questo caso di mercato italiano perché purtroppo eh ci sono altri esempi eh un esempio non di insuccesso come Bion ma eh che vorrei citarvi è l'esempio di Mario Gabelli magari questo nome a a molti di voi non dice nulla ma Mario Gabelli è non voglio esagerare ma non tanto meno a livello di considerazione eh negli Stati Uniti eh rispetto a un Warren Buffett perché è un value investor esattamente come Warren Buffett qualche anno fa perché il nome lo fa capire eh è di origini italiane sbarca sul mercato italiano con una sua società che si chiama Gabelli for Value ha sostanzialmente la struttura di una SPAC la SPAC è la famosa società che eh ha solo liquidità quindi quando si quota ha solo cassa e non ha nessun business ma si dà ventiquattro mesi di tempo per trovare una società che è una società che è una società che è una società che è una società target da acquistare e praticamente ecco qua abbiamo già il primo il primo ether vediamo un po' eh vabbè vediamo un po' se si può aspettate un attimo che voglio voglio un attimo rimuovere magari oppure segnalarlo vediamo un po' ecco vediamo un po' magari vediamo se si ferma lo rimuovo un attimo scusatemi ma vuol far tutto il giorno così scusatemi ma va beh andiamo avanti poi magari si stufa allora dicevamo che eh il progetto di eh Mario Gabelli in Italia è stato un fallimento eh praticamente non ha non è riuscito assolutamente a trovare una società target nei primi eh due eh nei due anni che erano necessari per per chiudere eh diciamo la eh trattativa e fondersi normalmente far fondere la SPAC con la società eh eh quotato eh però ehm logicamente eh questo vuol dire che eh torniamo al famoso discorso del value trading mercato italiano mercato americano ovvero quando mi sentite fuori dal coro essere uno dei pochi che non esalta eh Warren Buffett e perché comunque fare quello che ha fatto Warren Buffett negli Stati Uniti è meritevole di grande ammirazione ma sul mercato italiano non ci sarebbe mai riuscito e non perché Mario Gabelli addirittura non è riuscito a trovare una società target in ventiquattro mesi come previsto dal regolamento SPAC ma perché eh purtroppo lo dimostra lo storico prendiamo del Fuzzimib che è il più facile ve lo semplifico picco del duemila e uno cinquantuno mila punti eh picco del duemila e sette eh eh quarantacinque mila punti eh e eh abbiamo praticamente adesso un mercato che vale eh neanche venticinquemila punti per cui ecco ti saluto Giorgio Carotta basta che la pianti eh ok sei contento no no ma è un è un hater vuol dire che siamo molto amati eh stiamo crescendo troppo e diamo molto fastidio allora eh questo cosa vuol dire che il mercato italiano eh tranne qualche rara eccezione non è così diciamo eh veramente eh predisposto eh al eh value trading per cui logicamente eh bisogna secondo me eh fare sia eh analisi tecnica che analisi fondamentale l'analisi fondamentale ci dice quanto una società è valida l'analisi tecnica ci dà il timing ok poi per quanto riguarda invece il discorso del mercato americano eh io eh vi faccio un altro esempio che magari mh molti di voi eh sinceramente eh conoscono perché è molto famoso e mi sto eh riferendo a Carlo Ponzi che eh è passato la storia come Charles Ponzi ma era nativo di Lugo di Romagna e ehm ovviamente lui è passato la storia per lo schema Ponzi eh che in realtà aveva copiato eh eh praticamente da altri immigrati eh che erano andati in Canada a farlo ma poi erano riusciti a scappare in Sud America e aveva fatto decine di milioni di dollari negli anni venti trenta negli Stati Uniti poi è stato eh processato condannato e va bene eh lui diceva che faceva un arbitraggio tra valori postali con Europa e Stati Uniti ma senza voler togliere eh eh dei meriti a eh Warren Buffett però dobbiamo ovviamente notare che eh negli Stati Uniti io non dico che eh è stato eh eh diciamo scoperto inizialmente eh Charles Ponzi e quindi eh vuol dire che gli statunitensi siano meno svegli di noi italiani però la cosa grave per me è Madoff perché quando già c'è stato eh ovviamente eh una situazione come eh eh Ponzi negli anni venti e trenta se poi eh riesci lo stesso a farti eh fregare da Madoff che Madoff vi invito a vedere il bellissimo film credo che sia con De Niro e Michelle Pfeiffer non aveva neanche un condo trading aveva nel suo palazzo al piano diciassettesimo un ufficio che praticamente eh creava una contabilità parallela perché praticamente eh doveva questa contabilità dimostrare che in ogni condizione di mercato eh ci fosse un eh 10% di rendimento e quindi venisse quasi azzerata la volatilità quindi cosa intendo dire? Che eh l'analisi fondamentale ovviamente eh va tenuta sempre in grande considerazione però nel mercato finanziario non possiamo avere la certezza di eh ritenere corretti al cento per cento i dati che leggiamo eh vi faccio qualche altro esempio prima abbiamo parlato di Beyond ok eh adesso parliamo di Mondo TV molti mi chiedono perché Mondo TV si trova a questi livelli di prezzo e il titolo non eh riesce a risalire per un semplice motivo che eh Mondo TV eh quando eh era in auge era arrivato a valere sette euro per azione eh di punto in bianco disse in una trimestrale scusate c'eravamo sbagliati ehm tutti i lavori eh che eh tutte le commesse che abbiamo nel sud-est asiatico o molte di queste commesse non di questi contratti non si concluderanno per cui dobbiamo rivedere le nostre previsioni sul fatturato e margini titolo è letteralmente crollato e ovviamente eh capite bene che eh la società ha perso credibilità poi che il figlio dell'erede che si chiama Matteo Orlandi e la madre Giuliana Bertozzi continuino a comprare abbastanza regolarmente azioni eh però serve a poco perché comunque il problema è che purtroppo eh c'è un problema di credibilità eh ormai che il mercato non ha più eh nei confronti della società perché se l'è già bruciata. Quando mi chiedete di Saipem eh ovviamente Saipem eh fu la stessa identica cosa eh seppure in modalità diverse tre aumenti di capitale in dieci anni profit warning dal giorno alla notte titolo che fa meno cinquanta per cento eh che valeva trenta euro e te lo trovi a quindici giorni il giorno dopo eh ovviamente non andiamo da nessuna parte adesso non credo che purtroppo Saipem potrà mai più tornare al a livello eh di quanto eh eh era dieci anni fa ma i casi sono innumerevoli per cui quello che voglio dirvi io è questo. Voi dovete imparare a leggere un bilancio per quanto possibile cercare di capire se una società è correttamente valutata o meno però poi l'analisi tecnica deve sempre fornirvi il timing. Vi faccio un altro esempio. Io mi sono formato su Marfi come so molti di voi analisi tecnica dei mercati finanziari forse il best seller di tutti i tempi però un libro che mi ha appassionato particolarmente è dei mercati eh di Robert Schiller eh che peraltro ha preso eh una eh eh una frase di eh Greenspan eh che eh andò a ritirare un premio e disse i mercati eh sono eh in euforia irrazionale. In quel libro ci sono tantissimi eh passi molto interessanti però eh logicamente ehm l'aspetto per me più importante è quello eh no l'audio dovrebbe funzionare. No prima parlavo di mondo tv. Comunque vi stavo dicendo che la cosa importante è che eh Greenspan parlò di euforia irrazionale è del titolo ed è il titolo che praticamente riguarda ehm il libro di ehm Robert Schiller che è stato anche premio Nobel peraltro Robert Schiller e ovviamente Robert Schiller eh ha mh e ha e anche l'indice che il Schiller è eh ovviamente eh fa riferito al suo nome ha parlato di tanti passi importanti in questo in quel libro. Quello che mi ha colpito di più è praticamente che l'indice Standard & Poor's eh cinquecento investendo un dollaro americano nel millenovecentosessantase sarebbe stato tale nel millenovecento. L'ho ritornato tale nel millenovecentrovanta due. Quindi capite che il timing ovviamente non è un qualcosa di eh ah vediamo un po' forse posso far così vediamo ho messo l'utente in time out. Forse sono riuscito è stato sospeso però per trecento secondi. Vediamo un po' se c'è qualche altra modalità. Nascondi utente dal canale. Ecco forse è così scusate forse ce l'ho fatta. Vediamo un po'. I messaggi di quest'utente verranno nascosti. Ok perfetto. Eh e dicevamo per cui eh io il video di ieri l'ho fatto su un'analisi fondamentale però ricordatevi e ve lo ribadisco che se non abbiamo un capitale estremamente importante eh non è eh assolutamente possibile eh non eh dare conto del timing perché abbiamo fatto l'esempio prima di Mondo TV. Mondo TV cinque anni fa era un gioiello. Oggi una società è in grande difficoltà e fa fatica a riprendersi dei livelli attuali perché comunque ha fatto un programma di finanziamento con le famose obbligazioni convertibili che vengono convertite in azioni a sconto e vengono mh immesse poi sul mercato. La stessa cosa è successa su Agatos. Eh sei mesi fa era ancora una società molto interessante adesso finché non finirà questo programma di obbligazioni con McQuire e ehm eh Atlas ovviamente è una società che farà molto fatica a riprendersi. Quindi logicamente noi abbiamo tutte queste informazioni gratuitamente dal sito di Borsa Italiana e eh se dovessimo eh riuscire a mettere tutto assieme allora eh eh il nostro trading potrebbe diventare sicuramente più profittevole. Adesso siccome eh eh sono sicuramente molte le domande che volete fare cominciate a scrivere e penso di avere anche eh bloccato l'hater così eh mi eh potete eh tranquillamente chiedere quello che volete. Eh allora vedo che qualcuno comunque l'ha presa bene perché vedo saluta l'ingegner Matita. Eh ecco sì 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 sì. Ok. Allora cominciate pure con le domande eh. Allora guarda adesso considera che Air France io non te la posso fare eh adesso perché eh praticamente eh aspetta che anche lui forse giustamente Gaetano eh ok perfetto così abbiamo anche un altro che abbiamo cancellato. Allora dicevo che eh il problema di Air France è uno solo che eh molti mi chiedono per esempio perché non fai eh delle analisi eh sui titoli MTA International ehm perché molti di loro sarebbero interessantissimi perché eh è più difficile reperire i dati di bilancio cioè il fatto di ehm tradare sul mercato eh italiano da un vantaggio di eh accessibilità ai dati cioè io vado sul sito di Borsa Italia se devo far trading ovviamente è un discorso diverso perché i dati sono ritardati circa di quindici minuti però se devo invece eh potermi eh ho la possibilità insomma di eh leggermeli a bocce ferme è tutto molto molto eh interessante e ovviamente diventa eh molto più facile riuscire a capire se una società è sopravvalutata o sottovalutata. Eh Fabrizio Atlas e Company fanno il loro mestiere siamo noi che dobbiamo eh questo hai perfettamente ragione Fabrizio però è una battaglia che il mio amico Emerick eh che mh porta avanti da tanto tempo e in effetti è molto penalizzante per gli investitori. Marco eh Andrea ti fidi dei dati messi in bilancio. Allora è ovvio che eh partiamo da un presupposto scusate se eh posso sembrarvi troppo negativo però in realtà eh una società che non dovesse avere bisogno sappiate che non si quota in borsa cioè se notate Ferrero che è la società forse più solida a livello italiano non si è mai quotata in borsa Barilla non si è mai quotata in borsa per cui dobbiamo partire anche da questo presupposto qui eh no beh no diciamo che eh Stefano chiede differenza tra EPS e e e price earning eh sono semplicemente due modalità di calcolo diverse noi potremmo calcolare anche un EPS eh sul eh su un titolo italiano la differenza qual è? Che l'EPS a me non piace perché c'è una forma che hanno le società americane per far risultare gli EPS molto positivi e ve la spiego subito sono i piani di buyback perché loro comprano azioni proprie poi le annullano e di conseguenza l'EPS sale per cui per me la grossa differenza è questa qui. Eh Davide eh Andrea una coppia sul trading system. Allora io sono un trader discrezionale per cui il trading system non è un qualcosa che mi piace. Vi spiego perché non mi piace il trading system perché un noto eh sviluppatore di trading system italiano anche molto conosciuto eh eh è venuto diverse volte quando gestivo la trading room di Modena e mi ha detto che lui non avrebbe mai fatto il trading discrezionale perché troppo emotivo ma si sarebbe dedicato al trading automatico. Mi ha spiegato questo. Date dieci operazioni in un giorno. Il trading system è in grado di perdere eh o per stop loss o magari le commissioni nelle prime sette operazioni che tenta e con le tre che rimangono delle dieci passare in guadagno. Io da trading discrezionale vi dico che se al mattino inizio e perdo le prime sette operazioni su sette ecco qua un altro aspettate vediamo ecco ok ed è per cui che non riesco eh mentalmente a accettare l'idea di vivere questa situazione. Quindi io accetterei un trading system se non dovessi io essere a eseguire accendo il computer fa tutto lui la giornata arrivo vedo cosa ha fatto allora potrei eh pensare anche di eh eh provare un trading system se no eh sinceramente non lo farei mai. Eh allora Antonino piede piede le banche ma allora le banche il pie secondo me conta meno conta di più il chat one eh ci sono dei parametri europei da eh rispettare ovviamente sotto il dieci per cento sono molto pericolose e indica sostanzialmente la solidità di una banca. Se una banca non fa prestiti e ci sono anche delle banche che non fanno prestiti perché comunque medio banca non fa prestiti per cui ha dei un price earning eh su un chat one che è sicuramente più alto di una banca commerciale eh però eh a me quello che preoccupa nelle banche oltre al chat one è capire bene la posizione degli NPL che spesso viene sottovalutata. Allora edilizia acrobatica eh adesso non so se è ancora uscita la trimestrale però eh la farò edilizia l'unica cosa che mi preoccupa che eh praticamente ehm è una società che eh come gibus e come sugar ha beneficiato tantissimo del bonus centodieci per cento. Per cui anche se il bilancio continua a essere buono eh mi aspetto che comunque eh con una revisione del centodieci possa un po' soffrire. Matteo non basta andare sul sito della società e ho capito però non credo che abbia la pagina in italiano. È vero che io trovo il francese eh parlo francese quasi come l'italiano però trovarmela in italiano eh e comunque parlo un francese magari scolastico o di militanza sul campo perché ho vissuto i primi trent'anni attaccato alla costa azzurra però i termini tecnici magari anch'io non li conosco in francese. Eh per cui è più facile eh reperire i bilanci di società italiane purtroppo. Eh Giampiero dove si trovano i bilanci? Dal sito di Borsa Italia comunicati societari eh notizie comunicati societari sono tutti i bilanci. Eh io andrei a vedere insieme i dati di una società su un sito gratuito. Eh no ma questo Mario eh ve l'ho utile netto eh posizione finanziaria netto e patrimonio netto quindi è molto facile. eh allora eh Alerion che prospettive hai? Allora aspettate che stanno arrivando molte molte eh allora ecco Alerion ma no Alerion ottime prospettive però però eh ovviamente eh il titolo è già salito molto per cui eh quando un titolo sale così tanto anche se ha ottime prospettive qualche correzione di periodo potrebbe averla. Eh vedo che Fabrizio cita Stefano EPS utile per azione sì esatto però quello che spiegavo io è che l'EPS a me non piace perché se tu diminuisci il numero di azioni circolanti con un buyback e le annulli eh ti viene un EPS alto per cui è meno è meno affidabile. I bilanci di grandi capitalizzazioni in genere più più ma allora sì però eh capisci bene Enzo che Enel eh che capitalizza quaranta miliardi di euro eh comunque quest'anno farà tre miliardi tre miliardi e mezzo di utile netto e ha un debito di sessantacinque miliardi eh eh Ale BS e Mar sottovalutate BS probabilmente sì Mar devo dire anche se ce l'ho nel mio portafoglio di medio e lungo periodo eh in realtà ha purtroppo mi ha purtroppo deluso a livello di trimestrale perché mi aspettavo essendo questa trimestrale compressiva dei dati estivi fosse molto molto meglio. Eh Alessandro secondo lei Montepaschi vale eh ma allora dunque adesso l'ultimo chat one di Montepaschi anche se di cinque quindici dici sette eh quince punto sette Montepaschi ha perso purtroppo la credibilità con il mercato quindi eh potrebbe anche avere venticinque di di chat one che cambierebbe purtroppo molto poco che eh Unicredit se la possa prendere non lo so Orsel è uno dei più grandi comunicatori mai esistenti eh in eh al mondo perché per me eh Unicredit adesso è cresciuta veramente troppo. Eh Andrea eh Galeazzi cosa ne pensi una società con tanta cassa ma che non viene mai investita. Ah penso che voglio dire sulla quale non 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 viene mai eh investito diciamo non viene mai presa in considerazione al mercato e purtroppo i casi ci sono eh vi ho fatto l'esempio di Danieli. Danieli credo che siamo io non ho mai nessun appunto e vedete ho questo che è chiuso improvviso sempre quindi posso anche sbagliarmi ma è difficile perché ho buona memoria. Mi pare di ricordare un miliardo di cassa un miliardo e due di capitalizzazione. Per me Danieli potrebbe valere anche il doppio ma purtroppo eh 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 diciamo che è già capitato. Eh Andrea prossima inserisci un eh moderatore che bani disturbatori. Hai ragione però sai per me è un ehm diciamo piacere stare con voi però io sono un informatico eh come dico sempre peggio di un bambino dell'asilo quindi logicamente cercheremo di evitare ma non me l'aspettavo anche perché comunque eh non ne capisco l'utilità se non sia l'invidia non lo so perché io non mi non passo il tempo andare a spammare come si dice trollare credo sia altrimenti giusto. Eh Alessandro il rischio che temo di più è quello di bilanci taroccati. Ecco sì hai ragione io poi eh anche questo EGM che dici tu sì sinceramente non 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 è una una cosa che eh secondo me risolve i problemi quindi la tua considerazione è ampiamente condivisibile. Eh Umberto si potrebbe di analisi fondamentali Danieli ma eh Danieli c'è poco da dire e Danieli potrebbe valere tranquillamente il doppio eh rispetto a quello che vale in borsa capitalizzare quindi almeno due miliardi eh però incredibilmente il mercato non eh non la non la valorizza eh come come dovrebbe eh Filippo anch'io guardo queste ore mi fa piacere ecco è arrivato Livio il mio sodale Livio eh perché con Livio ci conosciamo per chi non ci fosse stato per la diretta di due sabati fa eh dal duemila e sei purtroppo è stato uno degli errori della mia vita me lo porto ancora dietro adesso eh però diciamo che in quel momento io vivevo in un'altra dimensione per cui ogni tanto mi faceva piacere andare a regalare delle gioie anche agli altri. Alivio ne ho regalate tante la cosa incredibile non incredibile per stato bravo lui che mi ha anche superato come guadagni in borsa per cui sono stato eh cornuto e mazziato. Eh allora eh analisi fondamentale su Nexi ma allora Matteo su Nexi c'è poco da dire. Nexi ha un solo grande problema che è il debito. Adesso è arrivato a cinque virgola uno cinque virgola due miliardi. I multipli sono ancora abbastanza generosi però saremmo ormai scesi tra venticinque e trenta. Chiedi a Livio cosa pensa di Nexi e vedi che non te ne non te ne parlerà in maniera così eh diciamo eh lusinghiera. Max ci sono i fattori moltiplicativi per il calcolo del price diversi? No allora eh come dicevo eh il price earning eh viene ovviamente tenuto in considerazione soprattutto per eh i titoli industriali per le utilities eh per i titoli del lusso mentre le banche si guarda molto il chat one che indica la solidità di una banca. Eh Carlo che conosco e che saluto dice Nexi problema debito ha perfettamente ragione. Eh cosa pensi di chiesti subito al titolo se dovesse andare in attenzione opposta? Ma eh dipende sai se io faccio trading intraday Davide sono quasi obbligato perché devo vivere di trading e non posso permettere mh permettermi dei eh dei loss troppo importanti perché non pensare che un trader intraday euro può tradare anche con diecimila con ventimila con cinquantamila perché sfrutta anche molto la leva intraday per cui se ha diecimila ma leva cinque usa cinquantamila se ha centomila leva cinque usa comunque centomila per cui se eh perde troppo eh vuol dire che brucia troppo capitale per riuscire a tradare eh serenamente perché poi ovviamente non va in drawdown tale per cui ha zero sul capitale. Patrizio perché Moncler e Fragamo non decollano? Beh allora c'è da dire che sono già eh valutate generosamente e Moncler oltretutto lì è un errore che per me faremo ruffini il terzo trimestre e lo fa anche il primo come vi spiegavo in apertura ha pubblicato solo i preliminari sul fatturato quindi non è eh facile capitare l'impa ehm calcolare l'impa fatto eh di eh Stone Island che poi cp company la società sui numeri perché c'è scritto solo fatturato ho fatto la Moncler e quello ho fatto la cp company eh però diciamo che Moncler in questo momento eh il mercato gli dà una valutazione anche se vogliamo corretta. Fragamo il problema è diverso eh perché praticamente eh Ferragamo dopo la gestione di Michele Norsa ha scelto tantissimo e eh è arrivato Poletto da eh Furla e sostanzialmente non ha ottenuto dei risultati positivi e adesso c'è un nuovo amministratore delegato la società si sta rilanciando però paga tutti gli anni di ehm purtroppo cattivi risultati eh negli anni della gestione di Poletto. Eh Carlo eh immagino sono dentro sugli otto eh si è riferito a Nexi eh cosa penso di Montepaschi l'ho già detto io non posso pensare purtroppo bene perché il problema di eh Montepaschi è un problema di credibilità perché quando eh un titolo perde il novanta per cento forse anche più del suo valore riconquistare la fiducia del mercato diventa molto molto difficile. Eh Matteo ha comprato migliazioni Nexi ci sta adesso i prezzi attuali ci sta perché intesa ha fatto la BB da cinquecentosessante milioni di euro per cui il titolo ha pagato più che altro quel problema lì eh quel gap down enorme è ovviamente il la BB a otto e settanta. Carlo ci ricorda giustamente che eh eh Montclair potrebbe pagare in questo momento il lockdown in Cina ed è verissimo eh sì allora eh Nexi è un margine basso sì eh però il problema come diceva giustamente mi sembra che Carlo prima è il debito perché avere più di cinque miliardi di euro di debito nel duemila e ventuno con tassi a zero non era un problema adesso può sicuramente eh 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 essere eh diciamo eh più difficile da gestire un debito così classe un così grande. Raffaello eh non ti fidi di dichiarazioni eh allora il problema è uno solo non è che non mi fido di Messina e che Messina comunque eh ha avuto e chi lo ha preceduto tutte le fortune del mondo l'ho già spiegato perché intesa nasce dalla fusione di tutta una serie di istituti bancari di primo livello Banca Commerciale Italiana San Paolo di Torino Banca Reimi che ancora adesso fa un terzo di utile di banca intesa Cariplo adesso Ubi che come ricordo sempre ha al suo interno la banca regionale europea che aveva un chat one eh oltre il 20 per cento e a Cuneo per Cuneo lo ricordo sempre è la più eh ricca provincia italiana a mani basse eh quindi non è questione che non mi fidi è questione che lui ovviamente parte da una posizione di vantaggio per cui è anche più facilitato il lavoro migliore nel breve periodo l'ha sicuramente fatto Orsel questo dobbiamo assolutamente riconoscerlo perché Unicredit partava partiva veramente da una situazione molto più se vogliamo difficile. Nexi eh nel lungo potrebbe essere oggetto di operazione straordinaria sì però chiedere sempre a Livio eh Angelo Azzurro cosa ne pensi di accumulare eh mondo tv? Allora mondo tv io non l'accumulerei finché non finiscono le obbligazioni convertibili. Quando finiscono le obbligazioni convertibili magari assolutamente potremmo pensare di accumulare. Eh IGV secondo te finché muore il vecchio non si solleva mai? Eh parli di i grandi viaggi clementi? Parli di lui? Bah non penso che il problema sia clementi penso che il problema sia che purtroppo la società perde soldi e quindi il problema di IGV è quello. Eh poi dimmi eh aumento di capitale su che titolo? Eh Alessandro non ti preoccupare. Eh allora guarda eh Gigio il bilancio di Apple non l'ho letto perché io non opero sui eh titoli americani però eh non appena il canale sarà cresciuto a dovere eh come ho già detto magari sarà da gennaio aprirò anche una eh sessione sezione di titoli esteri per cui eh mi occuperò ovviamente anche di Apple. Carlo è vero è mio cliente da anni però non spoilerarlo Carlo perché sennò sembra allora eh parliamo degli infiltrati. Livio infiltrato numero uno sarebbe segnalato ancora più di quello che diceva saluta mica rotta. Mauro che ho visto scorrendo che fa parte del gruppo di trading e anche Carlo quindi diciamo che eh quando scrivono loro teneteli in minor considerazione. Quello ancora short da ventumila non so di chi parlate poi magari se volete scriverlo eh no allora Mario no 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 io non eh non mi interessa se una società eh stacca dividendi importanti perché intanto il dividendo poi lo stacca e viene tolto dal prezzo e ci dobbiamo pagare pure eh pure il ventisei eh per cento. Francesco Ferragamo l'ho già detto è una bella storia di potenziale turnaround però i quattro anni quanto sono stati cinque di di Norsa eh praticamente eh diventa eh molto difficile che possano essere annullati in così poco tempo. Eh poi allora eh le PS come ti spiegavo già Luca eh è un valore eh del quale noi europei non dobbiamo tenere conto. Devi tenerne conto eh che praticamente eh devi tenerne conto solo eh praticamente se ti occupi di mercato americano. Per cui noi lavoriamo col price earning. Eh domenico eh quando arrivano tanti messaggi vi chiedo scusa perché devo andarli a riprendere perché mi fa piacere che scriviate in tanti continuate a scrivere. Digital value esprimano a piedi bassi posso recuperare? No beh un cinquanta per cento in questo mercato direi di no. Eh però eh sinceramente eh digital value non la considero così a sconto. Esprimia un venti trenta per cento penso di sì. Carlo per me non guadagna nulla del trade intanto chiacchiere allora oggi mi sono imposto che non non commenterò i miei colleghi per cui non chiedetemi perché non commento nessuno. Bridgewater Raffaello eh il fondo americano short su intesa come mai non dice più niente. Ah ecco lì eh magari bisognerebbe magari lo posso sottolineare ad Emerick eh perché con Stefano Sabetta fanno la trasmissione su di short mi pare lunedì eh e ovviamente sarebbe interessante che questi market mover come Bridgewater eh ci dicano la loro posizione. Eh Vitto in che percentuale fa le scelte tra l'analisi fondamentale? Eh io ho un portafoglio di medio lungo periodo eh ed è tanto ormai detto che il mio cliente è il servizio per cui ha abbonato Carlo eh che esce ogni settimana eh e eh invece poi faccio trading per cui per il medio lungo periodo eh ovviamente cerco di investire in società che mi piacciono sui fondamentali. L'intraday vale un po' tutto perché a fine giornata molto spesso sei fuori. Ah scusami. Ok scusami. Ma no allora eh per l'intraday conta di più un'analisi tecnica ovviamente. Per il medio lungo periodo conta di più un'analisi fondamentale. Diciamo che eh se eh può essere ottanta-venti diventa venti-ottanta cioè tradotto se per il medio lungo periodo l'ottanta per cento lo fa l'analisi fondamentale per l'intraday lo fa solo il venti per cento. Eh Ivano Farme ha comunicato eh di fare buyback ma non ha comprato ancora nulla. Ma allora Ivano ehm Farme è una società che a me non fa impazzire. Partiamo da questo presupposto. Perché continua a scommettere da tempo sul fatturato e poco sulla marginalità. Cioè fa sempre un fatturato in crescita ma non riesce a fare utili. Eh il fatto che non abbia ancora iniziato il buyback già annunciato può capitare eh ci sono società che magari fanno buyback e lo comunicano poi interrompono eh e ovviamente mh ti può sembrare strano ma è nella logica eh dell'operato di una società. Bisognerebbe vedere adesso io il dato non ce l'ho a memoria eh capire anche quanto hanno eh varato perché se un aumento di capitale da centomila euro hanno poche cartucce se da un milione di euro ovviamente possono tranquillamente ehm eh prendersi il loro tempo ma ne hanno anche tanto per riuscire perché il il buyback ha due caratteristiche controvalore e tempo perché e poi ovviamente c'è un limite di prezzo a rialzo e un limite di prezzo a ribasso quindi non è proprio così facile però eh penso che se lo hanno lanciato eh lo inizieranno tra non molto. Eh Carlo del resto perché rischiare se vendi corsi come non ci fossero domani? Ma allora sì eh non è ovviamente il mio caso ho fatto solo un corso di analisi tecniche in vent'anni molti miei colleghi hanno scelto la strada della formazione eh io sapete che sono di eh diverso avviso però siamo in democrazia per cui logicamente sta eh a eh ai trader agli investitori capire eh da chi indirizzarsi io personalmente eh preferisco quelli che come me sono ancora sul campo però siamo rimasti molto in pochi. Eh Paolo potrebbe essere una buona idea di vedere le azioni in base ai dati di bilancio per cui long su azione? Sì eh può essere una buona idea però con un limite che long puoi andare su tutto short no perché comunque gli intermediari non necessariamente ti concedono lo short intraday su tutto eh di certo trovare prestito overnight per un titolo sottile non è così assolutamente facile. Marco Mitico Camilli per te è mitico per me no io lo devo sopportare tutti i giorni eh Giovanni si può avere un esito di mirati di Erg? Allora eh sinceramente non sono stati male eh però il problema di Erg qual è? Che quando un titolo cambia quattro o cinque anni fa eh da sostanzialmente raffinatore a eh eh diciamo energie rinnovabili fa già un cambiamento epocale per cui il mercato l'ha premiato. Per quanto riguarda Erg il problema non è tanto eh il dati quali sono i dati di bilancio anche se secondo me a questi prezzi è correttamente valutata ma il fatto che il titolo sia veramente salito tantissimo per cui periodicamente bisogno di correzioni per riuscire a essere eh logicamente eh almeno a livello di analisi tecnica un po' scarico a livello di indicatori oscillatori tutto qui però i dati non sono stati male. Eh beh allora eh sicuramente Alessandro Nexi sull'innalzamento del contante potrebbe avere delle eh negatività eh poi non ho ben capito vi chiedo scuso perché tutto non posso ovviamente sapere se sul post eh forse è cambiata la soglia eh che c'è una soglia minima sotto la quale potresti anche non prendere eh quello sarebbe molto importante perché oggi giustamente il negoziante l'esercente eh che paga ovviamente l'uno per cento su una transazione da cinque euro eh non ha molto piacere a prenderti la carta quello quello eh Alessandro in bilanci di banche manca molte volte il debito come si può fare eh lo so Alessandro però le banche sono i bilanci come spiegavo eh prima più difficili per me da analizzare per questo problema che vi dimentichi tu ma anche per il fatto che eh non sai mai come contabilizzano gli NPL eh Alessandro anche andrei io preferisco eh scalping con leva in tradena riesco a fare cassetto eh ma Alessandro in realtà eh se tu eh visto che sei uno scalper entrassi nella mia scuderia eh perché eh io sto cercando dei trader per allargare la mia scuderia soprattutto se hanno già esperienza per essere di aiuto anche a quelli magari meno esperti ti accorgerai che anche noi eh non eh intendo io Livio Riccardo che siamo un po' le tre colonne della della nostra chat eh non è che eh disdegniamo eh l'operazione di brevissimo se noi chiudiamo entro un minuto non ti nascondo che preferiamo ancora allora eh Max MFE e vorrei fare un video dedicato per cui me ne voglio occupare perché tra l'altro adesso il titolo è in grande risalita per cui sicuramente eh allora eh Massimo eh perché eh di a di a capital è più difficile da fare perché di a capital fondamentalmente è una società che eh è una holding quindi ha le partecipazioni quindi praticamente devi andare a vedere come XOR al dia dello sconto storico venti trenta per cento sul NAV eh è un bilancio più complicato eh da eh fa da analizzare rispetto a un titolo industriale perché se vuoi fare un lavoro accurato dovresti vedere proprio tutto perché anche tamburi paradossalmente difficile perché adesso come mi giustifica bilancio il flop di Italy tamburi sapete che lo stimo tantissimo però lì è stata una bella botta per tamburi eh come mi giustifica la perdita totale o come mi ha giustificato la perdita totale sull'investimento in management capitali come mi giustifica almeno 80-90 per cento su Morrif come mi giustifica almeno 50-60 per cento su Telesia cioè mh è un po' più complicato in questo senso Andrea eh criteri SG ecco qua purtroppo eh sono sincero tocchi una nota dolente perché io ho proprio l'allergia a queste cose io questo eh mondo del futuro tutto green eh ci credo poco e per me eh è un uno spreco eh aver introdotto i criteri SG perché semplicemente sono dinamiche che i più capaci i più eh svelti a eh sfruttare le prospettive probabilmente riescono a cavalcare il momento e eh gli altri indietro eh Carlo c'è un bello stop su Nexi sì eh però logicamente adesso speriamo che il titolo almeno si mette in laterale Umberto valutazione di EMAC eh eh EMAC price warning ridicolo cinque eh o sei a memoria c'è un po' il problema del debito poi un iscritto al canale mi aveva tirato le orecchie perché ho eh ipotizzato un utile maggiore rispetto a quello che lui ha detto farà nel duemila e ventidue io avevo parlato se ricordo bene dei di 40 milioni lui ha parlato di 30 però la ritengo un'ottima società eh Domenico eh Biper eh Biper Carige ma io come sapete eh sono Ligure Carige eh ha sofferto dai tempi di Berneschi in avanti credo che sia una Montepaschi in piccolo purtroppo però il mercato devo dire che fino a questo momento sta continuando a premiare Biper eh poi eh guido come vedi petroliferi nel duemila e ventitré ma eh all'inizio penso che soffriranno perché a parte i lockdown in Cina non vedo una crescita economica tale per cui il petrolio possa eh riuscire a fare dei numeri incredibili ovviamente dipenderà molto dall'OPEC e dall'OPEC plus se dovessero tagliare molto la produzione probabilmente potrebbe anche salire bene il prezzo del petrolio eh logicamente eh mi aspetto magari eh un movimento più interessante nella seconda metà dell'anno eh Davide usi molto le bande di oscillazione sì il mio trading eh devo dire che è basato molto sulle bande di oscillazione perché comunque sono la mia assicurazione il mio paracadute eh Alessandro Biper da meno utili del Monte dei Paschi ma sai Monte Paschi in realtà eh per dieci anni non è stato utile per cui sinceramente ehm che possa chiudere un esercizio eh migliore eh di Biper Monte Paschi può anche essere però ripeto la storia parla per Monte Paschi Frank Alex ti vedo carico per banche e compra la migliore intesa eh secondo me sì però in questo momento le banche le vedo molto tirate personalmente entro solo se dovesse esserci una correzione eh mi chiede se l'intesa uscita da Nexi sarà un perché indubbiamente può essere un'obiezione corretta e ovviamente l'otto e settanta è un livello se vogliamo rispetto ai massimi raggiunti Nexi molto basso per cui il mercato qualche domanda se la fa eh Carlo arriva una storia diversa non so a cosa ti riferisci in nord zona ricca Unicredit er peggio Capitalia esatto Capitalia l'ho sempre detto il problema è che Unicredit ha all'interno gli NPL di Banco di Santo Spirito Banco di Roma Cassa di Sparmi Roma che è diventata Banca di Roma e poi Capitalia eh poi andiamo avanti scusate che ogni tanto ritardo perché arrivano talmente tanti messaggi mi fa piacere che mi scorre tutto e devo ritornare su Frank ha ragione mi avviso se aumentiamo ancora i tasti di fine anno meglio Eni sì oddio Eni è molto tirata anche lei per cui la acquisterei sempre sul eh su correzione Alessandro intesa non mi è simpaticissima va bene Domenico di solito scelgo titoli dello star perché hanno pie basse e fanno utili eh ma sì Domenico eh lo penso più che altro io sono stupito di vedere ancora al palo titoli come Sesa Reply Data Logic eh non l'ho ancora comprata però avendo il settanta per cento del capitale la famiglia volta in mano penso anche sempre che ci possa essere eventualmente un'operazione straordinaria Filippo per comprendere al meglio diventare esperto di bianci come consiglio approfondire metri finanziari settore per settore? Ma allora questa è una domanda molto difficile io non sono neanche ehm la persona adatta a risponderti eh quello che ti posso dire è che mh l'ho già ribadito sabato scorso quello che mi fa eh che mi rende molto orgoglioso è che eh due volte l'anno faccio una lezione magistrale di sala cattolica perché comunque eh pensano che su certe dinamiche legate agli investimenti finanziari possa essere degno di essere relatore alla cattolica e magari eh alcuni professori universitari non conoscano le dinamiche in cui si muovono i mercati meglio di me però per quanto riguarda l'analisi eh di eh di un bilancio come ho già detto un professore universitario un commercialista un revisore ne sa molto più di me per cui magari rivolgeti a una persona più esperta di me perché io sono semplicemente un manovale del trading che cerca di essere il più preparato possibile per il suo trading perché non ho per il mercati americani questo l'ho già detto lo ribadisco molto volentieri eh semplicemente perché eh io appartengo a una scuola che è la scuola genovese eh sapete che eh ci sono i McKinsey boy no? Eh che sono molto famosi e passare è stato un McKinsey boy io sono un millennium boy eh la scuola genovese quella di millennium soprattutto è stata per me la migliore scuola in Italia tra fine anni novanta e inizio anni duemila eh io seppure sono dei meno eh esponenti meno brillanti eh ci appartengo di diritto perché l'ho vissuta in prima persona e la difficoltà che i nostri migliori trader trader che hanno raggiunto patrimoni milionari in borsa e non cominciate scrivetelo se volete a dire cose illudite persone sono persone che partendo da poche decine di migliaia di euro hanno fatto milioni di euro sul mercato americano e sono trovati molto in difficoltà perché? Perché sono cambiate le regole di ingaggio sono diverse le regole di ingaggio cioè noi abbiamo queste bande di oscillazione che sono la nostra assicurazione sulla vita e queste ci permettono di evitare quelle situazioni in cui un titolo che compriamo ci fa meno trenta può capitare è capitato su CWS ma è molto raro in America invece è quasi all'ordine del giorno per cui uno abituato a tradare con le regole del mercato italiano sul mercato americano si trova molto in difficoltà ma no Patrizio Mediobanca è un morto vivente non esageriamo perché il problema vero è che il titolo è già salito tantissimo per cui è normale che qua si mette il laterale e ci stia magari anche molto tempo o correga un po' perché il titolo dai minimi ha corretto veramente molto ovviamente quando parliamo di Mediobanca parliamo di una banca che è veramente la banca d'affari più importante da sempre forse comunque da 50 anni a questa parte anche di più da quando ovviamente Cuccia è diventato il Dominus adesso c'è questo gap enorme che è semplicemente stato lasciato aperto per il dividendo quindi ci sta che adesso possa magari un po' soffrire sul breve Maurizio cosa pensi di un miliardo e mezzo di euro non penso bene temo che non possa tornare sotto 20 euro perché un euro purtroppo paga il fatto che fa un fatturato di un miliardo e mezzo di euro ma una marginalità talmente bassa che guadagna pochi milioni per cui è difficile allora Gianfranco cosa penso di fila ce l'ho nel mio portafoglio di medio lungo periodo però è un titolo che è a rischio stop per me perché voglio stoppare ma era un 3% il grosso problema di fila è il problema che hanno ormai tante società ce l'ha Amplifon per esempio ce l'ha Nexi che è il debito ha fatto tantissime acquisizioni per cui è un debito molto alto e è per questo che l'ho comprata perché non è una cattiva società però non mi aspetto dei numeri da circo come si dice Alessandro meglio banche o multi utility considerando ma allora sicuramente adesso meglio banche quando le banche centrali inizieranno a rallentare con l'aumento dei tassi magari si fermeranno e poi nella seconda metà del 2023 potrebbero anche a quel punto iniziare a tagliare di nuovo utility. Oddio Alberto c'è un modo per pensare se il bilancio irregolare secondo me c'è un modo che ti deve far venire un dubbio quando vedi dei bilanci incredibili non fatemi citare le società e in borsa le società non vanno per niente poi ci sono le eccezioni come Danieli che è un gioiello però ci sono società soprattutto medio piccole che valgono veramente poco in borsa per capitalizzazione per multipli che hanno dei bilanci talmente belli che ti viene dei dubbi se questi bilanci siano meno veritieri. Ma allora Mario medio lungo periodo si intende a tre sei mesi? Ma no beh diciamo che la differenza rispetto a una volta è che un tempo il medio lungo periodo erano anni adesso il mondo viaggia talmente in maniera veloce che forse tre sei mesi possono sei mesi ecco possiamo già definirli medio periodo. Puoi suggerire i metodi di aging per proteggere le posizioni di portafoglio? Ma allora innanzitutto è così la questione ironic ovvero se noi abbiamo 100 dobbiamo innanzitutto metterci un limite per ogni singola posizione eh che deve essere massimo massimo il dieci per cento per una blue chips e massimo il cinque per cento per una small cap. Detto questo soprattutto nelle fasi di mercato come l'attuale il mercato venti ventidue anche se io dico sempre duemila e ventidue però tutti i bravi dicono venti ventidue eh sicuramente non perché l'ho fatto io un etf short mi raccomando leva uno poi se hai un un conto idem nel senso puoi venderti un fib o un minifib a protezione del tuo portafoglio. No 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 io non uso Mattia l'analisi ciclica eh eh Danis eh l'abbiamo preso tutti a chiusura gap tu sei sempre attento quel giorno eri un po' distratto e adesso magari non ti fa più entrare però come ti ho già detto di occasioni avrei eh ne hai tante. Allora eh Antonio sul timing eh sul trading intraday che time frame solitamente utilizzi? Allora in realtà eh questo è molto difficile prima o poi una live ve la dovrò regalare quando imparerò a condividere lo schermo magari su una diretta. Eh nel nel trading intraday io come vi dicevo appartengo la scuola genovese di Millennium Sim e c'era un ragazzo lo cito anche se tanto che non lo vedo perché ne devo parlare solo bene che si chiama Walter che faceva dai cinquecento i mille eseguiti al giorno su STM e guadagnava almeno quindici ventimila euro tutti i mesi però perché li faceva? Perché lavorava solo di book c'erano ancora codici dei controparti e gli algoritmi non erano dominanti come oggi. Quindi in realtà per il trading intraday noi lavoriamo molto di book. Non è che lavoriamo molto di analisi tecnica. L'analisi tecnica la utilizziamo più nell'operatività multi day o comunque la utilizziamo per decidere se rimanere in posizione o meno su un titolo che abbiamo comprato durante la giornata. Come capire se l'ebiturità è troppo alto o troppo basso? Come ti ho detto come ho detto prima Alberto è eh ci sono dei parametri più usato è il debito fratto l'ebitda che non deve essere superiore a cinque. Eh Luca ma lo short operativamente si si fa solo con le opzioni oppure trovo eh scritto short? No no beh allora la differenza eh vabbè allora se tu vuoi andare short compri un'opzione put e tu sei short su un sottostante. Però eh puoi fare uno short un'azione quotata l'unica eh l'unico problema è che oggi Consob non ammette più dopo tutti i problemi capitati lo short naked per cui il tuo intermediario deve trovarti un titolo eh un titolo short a prestito per poter accendere il prestito ed eventualmente andare anche overnight eh intendo dire short con praticamente una posizione di vendita l'ho scoperto anche per più giorni. Mondadori matica gel cosa pensi? Ma allora gel non male ma non mi entusiasma matica eh devo dirti che la conosco molto poco anzi guardate vedi fatemi vedere una cosa eh allora vediamo un po' sto facendo come fa un mio noto collega allora gel utile netto due milioni eh posizione finanziaria netta tre sessantotto capitalizzazione dodici sì c'è un po' un problema di debito però in effetti sui fondamentali potrebbe valere un po' di più. Calepino me l'ha regalato emeriche eh perché tutti i dati a memoria non ne ricordo neanch'io vediamo un po' se troviamo anche matica matica uno virgola ventitré ecco matica per esempio è un po' cara perché capitalizza eh ventiquattro milioni adesso non sono dati precisissimi ne fa solo uno virgola due di utile per cui è un po' cara eh Mondadori invece non male però logicamente eh qui eh è una questione diciamo che secondo me tutti i titoli più o meno fammi vedere al volo ci guardo Mondadori dal punto di vista grafico sì mi ricordavo bene è su massimi di periodo per cui qui il problema non diventa più un bilancio ma il fatto che è veramente molto tirata e bisogna pensare o a uscire con uno stop profit sotto la media mobile a duecento uno e settantanove o comunque comprare solo su debolezza per cui non prima di area un e settanto addirittura poco sotto allora scusatemi ma arrivano molti messaggi allora ogni tanto devo ritornare per capire allora eh dove siamo arrivati eh allora risanamento eh guarda in realtà l'analisi fondamentale eh lascio un po' il tempo che trova perché mi risulta che risanamento gli sia rimasto solo Santa Giulia eh per cui non è che sui fondamentali si possa dire chissà che cosa eh riguardo all'analisi tecnica sicuramente il titolo è in una fase laterale credo che stia provando a fare base poco sotto area 012 da lì eh può ripartire però al momento lo vedo titolo da training range tra diciamo 11 e 70 e 13 e 70 vedo quello adesso eh sul risanamento allora eh eh tamburi che eh ferveglio vorrebbe avere oddio eh non te lo so dire Luigi qui su due piedi però tamburi paga ovviamente il fatto che le partecipazioni tutte in portafoglio del 2022 hanno perso tantissimo per cui è giusto che tamburi eh sia scesa ehm quali sono le prime voci che guardi per valutare velocemente una società che non conosci beh eh eh Luca il price earning sicuramente price earning lo guardo subito questo mi c'è scuso price earning poi guardo sicuramente la posizione finanziaria netta eh e magari guardo ecco quanto quanto è la marginalità perché un euro se partissimo dal fatturato sarebbe un gioiello se guardiamo la marginalità non mi eh non mi diciamo purtroppo eh entusiasma quindi quello lo guardo subito Carlo ecco non tolto la multa sotto i 30 euro grazie immagino si riferisca a Carlo ai post allora Paolo no ma è molto semplice per me basta eh basterebbero utile netto eh posizione finanziaria netto e patrimonio netto no basterebbero se proprio dovessimo ridurre al massimo eh allora eh Italian Sea Group eh la faccio poco eh fammela un attimo rivedere al volo graficamente ha recuperato molto bene dai minimi se non erro però ecco vedi Italian Sea Group è stata difficile da fare perché è andata nel frattempo a metà ottobre a fare nuovi minimi storici però mi piace molto come azienda quindi eh sinceramente non è eh assolutamente un titolo mh da trascurare Borgosesia sono sincero con te la capisco poco mi interessa poco ti spiego perché perché uno dei pochi titoli assieme a Vianini e WeBuild Risparmio che ha una banda di sceltazione al due mezzo per cento per cui eh la trado sinceramente molto poco eh Vito con la volatilità che ha nei mercati di consigli minore farete un po' meglio ma no beh Vito in realtà la volatilità è bassissima di periodo basta vedere cosa fa se non vuoi andarti a vedere il future sul VIX vatti a vedere il VXL o le LVO sono ritornate a livelli veramente ridicoli eh e poi dipende dalla tua propensione io faccio molto volentieri i trading intraday come mia attività principale se tu sei più portato a fare il cassettista è giusto che tu faccia il cassettista però se avessi preso posizione inizio duemila e ventidue secondo me oggi starai ancora soffrendo eh ma no Domenico adesso sull'obbligazionario ci si può anche guardare indubbiamente eh Alessandro come faccio entrare nella tua scuderia eh diciamo che la selezione è molto molto eh attenta perché comunque eh hai presente Gordon Ghecco nel primo Wall Street eh mi propongono cento affari ne scelgo solo uno ecco io non dico che ho quel livello di selezione lì però in un anno mi chiedono di di entrare nella mia scuderia circa cento persone cento investitori eh di solito eh non ne prendo mai più di venti comunque scrivimi un'email a info chioccio l'andrea cartisano eh punto it eh profumo con Leonardo è grande Jordan ho capito la battuta credo che pochi dati hanno cavalcato eh non so cosa ti riferisci Vito puoi magari scriverlo eh su Leonardo eh DRS è un vero game c'è eh c'è sì è vero Carlo tant'è che era volata quando avevano parlato già un anno fa della quotazione in America eh non necessariamente Patrizio io faccio anche operazioni da due o tre mila euro se mi rendono venti trenta quaranta cinquanta euro mi van bene lo stesso perché il mio obiettivo se faccio dieci operazioni al giorno da trenta euro sono quel sei mila euro al mese nel duemila e ventuno sarebbero state eh sinceramente eh magari poche eh oggi in questo mercato ti dico che è molto più difficile per cui va bene così ecco eh Domenico Finotto vorrei entrare nella tua scuderia come si fa anche tu Domenico info chioccio l'andrea cartisano punto it Vito info chioccio l'andrea cartisano punto it se c'è spin off eh di DRS il titolo decolla dice Carlo sì però decolla ancora di più e viene fatto fuori profumo questa è una mia eh idea eh Giovanni cosa è successo a Servizi Italia? Allora questa è una bella domanda eh Emmerich mi eh scusate se siamo un po' sempre quattro amici al bar mi mina sempre bellino eh e la tua protegge a me piaceva molto Servizi Italia società dello star che oltretutto eh ha speso eh decine di migliaia centinaia di miliardi di euro ogni anno in buyback piani buyback semplicemente non riesce a fare tanta redditività pur occupandosi di un settore molto interessante che è il settore finanziario eh scusate settore sanitario ehm e eh mi dicono che però nel covid abbia sofferto molto perché il covid ha fatto rallentare eh diciamo la sanità ordinaria per cui i business di Servizi Italia magari ne sono stati toccati comunque quando purtroppo andate a trovare una persona in ospedale vedete che le coperte le lenzuola sono quasi sempre Servizi Italia anche le siringhe sterile sono Servizi Italia è presente in Sud America in India oltre che ovviamente in Italia però eh purtroppo fa poca marginalità eh e ho capito Carlo eh però tu sei un professionista non voglio dire cosa fai perché io lo so di successo per cui eh al momento magari ti ti manca il tempo eh e è un po' quello che sinceramente eh è il tuo problema allora scusate che di nuovo sono arrivato in altre domande allora mi cambia la schermata non sono mai riuscito a capire che l'interno è un medio periodo no vabbè allora Giampiero una volta il medio periodo era forse anche un anno oggi direi che sei mesi ma anche tre mesi perché se tu passi dal mercato del 2021 al mercato del 2022 cioè se passi da febbraio 2022 ok l'ultimo mese diciamo gennaio dove abbiamo fatto il picco anche solo a maggio è già medio medio periodo per per le condizioni che sono cambiate quindi è è un po' quello eh Frank eh si riferisce a Jordan eh Jordan e Frank sono due personaggi del gruppo eh Marco Fuzzimil non sembra troppo tirato sì certo io ho molta paura per il brevissimo anche se credo che l'anno lo chiuderemo eh in maniera moderatamente positiva in che senso che perderemo comunque ma non il venticinque per cento che eravamo arrivati a perdere sui minimi di luglio eh vabbè eh Domenico eh io molerei il lavoro per fare tutto il giorno solo trading ho capito hai la fortuna di avere eh uno dei più bravi formatori che ci sono in Italia che eh faccio la battuta che non è accorto di 21.000 perché ovviamente so dove volete parare ma non vi dirò nulla e quindi scrivimi e avrai l'occasione della vita tra l'altro sarà un'occasione unica eh affrettatevi perché io farò così come faccio adesso solo fino a fine dicembre 2023 poi aprirò la mia scuola di trading per cui eh sarà un po' diverso quando c'è un pie alto Alberto ci si aspetta un forte upside per il titolo non necessariamente eh in mercato vive molto di consensus perché a Brunello Cucinelli permettiamo un pie eh di 40 per due motivi settore di appartenenza e personaggio dotato di un'aurea mistico magica che è Brunello Cucinelli Domenico Alchemy da tenere per il medio eh periodo per il proprio medio diciamo che i dati sono migliorati c'è dentro tamburi per cui ti direi in teoria sì Giovanni Stellantis è un governo posso ma questo visto che ma allora Stellantis eh sinceramente io non l'ho mai capita a fondo perché non capisco come faccio a fare tutto questo utile eh vi ribadisco il concetto eh di essere stato l'unico in Italia assieme a eh Fabio Pavesi a criticare la gestione Marchionne sui numeri perché come comunicatore eh è stato il migliore degli ultimi dieci anni assieme a eh Orsel eh io sinceramente non capisco è vero che non è il mercato europeo il mercato principale ma è il secondo comunque fatto un anno disastroso sulla vendita di nuove auto e i numeri sono così buoni ecco il mio dubbio è quello certo che se conferma i dati a questi prezzi è sicuramente un ottimo eh esatto Fabrizio esatto anche i bilanci delle assicurazioni eh bravo banche assicurazioni sono i bilanci più eh diciamo difficili da analizzare eh per le banche tenete conto del chat one per le assicurazioni del solvency ratio eh andare su allora Eurotech eh Giovanni è molto semplice in analisi purtroppo una società che perde ancora soldi l'aspetto positivo è che ha ridotto decisamente le perdite però al momento è una società che è ancora deluso eh Domenico eh si esprivia un pie mi sembra attorno a dieci eh io però eh non credo ai miracoli eh ed esprimere una società un tempo molto in difficoltà si è poi presa anche i tal tel che è stato un boccone bello grosso per cui sui fondamentali sicuramente una società che terrei assolutamente monitorata eh ma allora BS non recupera perché eh anche lì Mario c'è stato un problema simile a quello di STM dove la società ha fatto una guidance da paura nel senso che ha detto non abbiamo certezze per il futuro per cui i dati sono buoni ma non siamo convinti che potremmo replicarli che lo semplifico eh Andrea se un titolo eh dopo aver scalettato ehm no allora eh diciamo che Davide ehm ho capito la tua domanda però la mia metodologia di mettere ordini dalle 8 o 9 scalettati è valida eh se un titolo accelera ribasso in maniera violenta se scende goccia a goccia io nel mercato eh magari eh posso addirittura eh decidere il primo ordine quello più vicino al prezzo di cancellarlo cioè fondamentale la ehm eh come posso dire eh la velocità in cui ti viene a toccare il prezzo eh se prendi lo spike la probabilità di guadagnare è molto alta se invece prendi goccia a goccia eh allora eh questa percentuale passa a tuo sfavore e poi comunque gli ordini non vanno messi fino al 5% questo vale sulle blue chips sulle small cap vanno messi fino al 10% eh allora eh Andrea cosa pensi di una entrata in S in A2A è sempre piacere ascoltarti che canio grazie eh Andrea è un altro infiltrato e ve lo volevo dire per quello che mi fa i complimenti eh adesso no perché è molto tirata però fino a ritestare la media mobile a duecento credo ci possa tranquillamente arrivare la media mobile a duecento siamo arrivati veramente già a poco è uno trentatré e mezzo potrebbe andare anche fino a trentasette e trentacinque però eh qual è il problema che eh adesso eh troverà delle resistenze sulla sua strada molto vicine ai prezzi attuali per cui io preferisco una correzione per rientrare anche se io ho 5.000 azioni ancora adesso e l'ideale è un ritorno tra 1.23 e mezzo e 1.22 che è stato il minimo dell'altro giorno eh eh Vito lei trada con i CFD eh 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 Vito ti devo tirare le orecchie se eh tu fossero come me i CFD non esisterebbero perché i CFD significa tradare in un mercato non regolamentato noi tradiamo solo su Borsa Italiana eh Domenico Sol può recuperare eh sì eh Sol può recuperare perché è un'ottima società più che altro fa praticamente ossigeno a scopo medico eh per cui a me è un'azienda che piace molto eh Ironic puoi affrontare questo ma allora eh la 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 posizione finanziaria netta come dicevo l'unico parametro che viene considerato eh di valutazione della stessa è quello rispetto alle bidda per cui se facciamo che una società ha 100 milioni di debito e un bidda di milioni è considerato accettabile perché questo parametro è 5 se avesse un bidda di 5 allora una società che diventa rischio perché è 20 questo parametro per cui è l'unica formula che viene utilizzata universalmente per valutare se il debito di una società è eh bene o male gestibile o meno. Reply cosa ne penso Tonio? Ottima società ma molti vi molto generosi. Neospirance non la faccio più eh perché eh praticamente se non erro dopo l'esercizio warrant che eh l'ultimo è stato qualche mese fa è solo venuta giù e allora quando hanno questi grafici le società ehm fine settembre 2021 valeva 340 adesso vale 1,40 eh sinceramente non non le faccio più. Eh può essere Pierpao no scusate ho saltato eh eh grazie a sponibilità Alessandro sì ehm ma no Tonino eh Danieli sai eh hai ragione un'obiezione giusta la tua però eh lì purtroppo decide la società come eh gestire la propria cassa loro hanno ovviamente molta cassa e preferiscono probabilmente eh mantenere tutta questa liquidità perché eh li fa sentire magari più tranquilli rispetto a qualunque cosa possa accadere eh ma allora Parmalat eh Parmalat eh Parmalat eh allora Parmalat eh vi devo dire una cosa interessante eh non che Stellantis eh sia una società a rischio per quanto possiamo sapere però la modalità eh che contestavamo io e Fabio Pavesi a Marchionne eh debito industriale 18 miliardi cassa 20 miliardi è la stessa lo stesso principio di Parmalat che continuava a chiedere eh diciamo finanziamenti metteva bond pur avendo una cassa incredibile ecco questo eh era quello che poteva far smascherare eh Parmalat come poi effettivamente è stato eh Pierpaolo c'era uno che si chiama Nicola su STM ma sì ce ne erano tanti però Walter era il più bravo di tutti eh sì allora guarda Beppe sicuramente hai ragione tu però io non non posso seguo non posso seguire tutti i titoli e eh Matica mi sembra che il mercato l'abbia un pochettino dimenticata per cui se il titolo mi scambia molto poco o se mi va in termine range come in questo periodo qua faccio fatica a lavorarlo eh per cui certe volte vi deluderò eh lo so benissimo però io non posso seguire tutte le 400 e rotta eh rotte società quotate però hai fatto bene a sottolinearlo eh la creazione di una community di gente che segue veramente i mercati e investe soldi in mercati io l'ho voluta creare appunto per questo per cui ti ringrazio molto Sergio da Cassettista meglio investire su utili o meglio sui bancari ma allora eh come ho già detto sui bancari fino a che i tassi continuano a essere alzati dalle banche centrali meglio eh quando invece eh cambierà questo paradigma meglio tornare sui utili ma eh Carlo sì però questo è un ragazzo che arriva a fare mille eseguiti al giorno per cui ovviamente è una cosa che non 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 è diciamo possibile replicare fortunatamente perché sennò si impazzirebbe vediamo un attimo eh se qua c'è già energy o non c'è ancora non c'è ancora qui eh potemi vedere sì energy crescita di utile fatturato ma allora mi ricordo che ho visto passare i dati eh però eh non è facile da fare eh energy come titolo per noi però sicuramente ti prometto che andrò a guardarmela e poi e poi vedremo eh ma allora su Unin avevo molti dubbi però non è che le ho azzeccate tutte li avevo su mondo tv per esempio perché su mondo tv li avevo perché mondo tv usciva quando valeva sette euro ogni giorno ogni due giorni con un nuovo accordo e allora dico eh mi sembra incredibile però Unin non posso dire non posso dire eh che mh avevo previsto anche un ti direi una bugia Domenico Italian Wine Brand è un gioiello italiano secondo te ma oddio un gioiello italiano mi sembra esagerato è una buona società però non la posso ritenere io i gioielli per me ve l'ho già detto tante volte sono Elen sono Reply eh sono Sesa sono questi gioielli eh non Italia Wine Brand eh Masi Agricola Paolo interessante perché comunque ha investito bene eh anche Renzo Rosso eh i numeri non mi sembrano male per cui mi sembra una società molto interessante eh come fai nella fare il bai beh eh Sergio e come fa a dare un dividendo sempre generoso eh Enel ma perché ovviamente è il governo che lo chiede fondamentalmente secondo me eh quali sono i contenuti della newsletter Gianni eh ma allora eh facciamo così eh mi scrivi in privato info chiocciola andrea cartesano punto it e ti mando un numero gratuito così la guardi e te ne fai un dia poi all'invita i miei ricontatti eh Raffaello cosa mi dice degli opzionisti istituzionali che tanti sottolinei posizionali ma che vengono smentiti eh opzionisti istituzionali no però scusami eh degli istituzionali di solito eh non non vengono eh ovviamente fornite le posizioni in opzioni eh ma le posizioni short più che altro le posizioni long perché quando viene raggiunto una sorta eh una soglia eh di capitale detenuto va comunicato obbligatoriamente eh io non so eh a cosa tu ti riferisca magari riscrivino Raffaello eh però in realtà noi abbiamo accesso soprattutto a questo perché c'è l'obbligo di di comunicazione a consob sia le posizioni long sopra il due per cento che delle posizioni a short adesso mi sembra che sia lo zero cinque l'obbligo di comunicazione sullo short. Marco come mai eh gas snam eterna ma allora sono i migliori non tanto solo per i dividendi ma perché storicamente sono stati i titoli più resilienti perché hanno tenuto il debito sotto controllo e il mercato gli ha considerati i difensivi per l'eccellenza ancora molto di più di una A2A di una Enel di una Era di una Iren per cui è per questo motivo che se sono un cassettista preferisco andare su questi titoli. Eh cosa ne pensi di Moncler Matteo ne ho già parlato ottima società che però adesso secondo me ehm ehm valutata correttamente se eh come ho detto prima devo fare un piccolo rimprovero ehm a eh Remo Ruffini e che visto che ha fatto questa acquisizione così importante di CP Company che è il marchio più importante è Stone Island ovviamente eh è importante vedere i dati annuali e di conseguenza avrei pubblicato nei dati trimestrali anche EBITDA EBITUTILINETTO e non solo il fatturato. FinLogic la vedo come alternativa però non so a cosa comunque FinLogic fa codice a barra eh Datalogic fa i lettori e FinLogic fa codice a barra. Tra l'altro Datalogic ha il cinque per cento di FinLogic. Eh Alessandro non ho preso la forza? No 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 Alessandro io di solito no e quando lo faccio me ne pento sempre. Sei un grande Andrea Domenico. Grazie ma me lo dicono tutti. Scherzo. Anzi devo dire che eh io sono o particolarmente amato o particolarmente detestato. Eh qual è l'indice della volatilità di un titolo. Ma eh lì è semplicemente c'è il beta che praticamente è l'oscillazione di un titolo rispetto all'andamento di mercato. Quindi si usa di solito il beta. Eh Maurizio Doif Lufthansa. Ora eh devo dire che le compagnere hanno rimbalzato bene dai minimi. eh Lufthansa addirittura era andata a cinque e mezza adesso a sette e mezzo. Eh rientrerei solo su un po' di correzione almeno eh se dovete tornare a sette. eh poi eh il webinar di due settimane fa è disponibile eh integralmente Alberto no per due motivi per tre motivi. Primo perché inizio una parità della telecamera. Il secondo aspetta che lo guardo questo qui avevo silenziato e poi perché eravamo andati un po' troppo sopra le righe. eh diciamo che farò come fa la CIA. Lo pubblicherò tra vent'anni. Se tra vent'anni sarò mancato spero di no perché facciamo fra trent'anni. Vediamo tra trent'anni almeno ottant'anni fatemi arrivare e dirò a qualche mio esecutore eh testamentario di pubblicarlo. Eh allora Patrizio. Ma allora sai dipende. Io ci devo vivere il trading. eh io invidio molti miei colleghi che non operano in borsa per cui a loro non gli interessa niente per cui io eh sicuramente fino a fine anno sarò un po' più aggressivo sul mercato eh a inizio anno cercherò di essere molto conservativo perché mi aspetto che questo rialzo sia andato un po' oltre quello che i dati macro potevano eh riservarci e di conseguenza eh il nuovo anno possa esserci il nuovo anno possa esserci una correzione. ma allora posti io sono uscito l'ho detto l'avevo in portafoglio di medio lungo periodo e eh devo dire che adesso mi aspetto una correzione fino alla media mobile a duecento che è nove virgola zero quattro poi eventualmente fino alla media mobile a cinquanta che otto e sessanta lì probabilmente prenderei eh prenderei nuova posizione sul titolo. come ho già detto io poi posso sbagliare mi aspetto al limite una correzione di breve e poi un ritorno sui massimi o addirittura magari sopra area venticinque mila però sarebbe un eccesso ecco questo ci tengo a dirlo e di conseguenza poste tornerebbe su. Italmobiliare Antonio è un'ottima società dimenticata dal mercato ha un portafoglio pazzesco una holding eh sinceramente l'ideale per me è un ritorno sui ventiquattro ventiquattro e mezzo di proverei a entrare. eh andrei in percentuale tra le sue usi maggiormente il book o le bande di oscillazione? No no beh allora l'ebook serve per vedere come eh ci sono gli ordini più importanti e ai quali appoggiarsi però il lavoro è principalmente sulle bande di oscillazione eh no beh scusami Antonio perché poi c'è il messaggio da vedere in mezzo è molto bella eh come azienda eh intermobiliare come holding per cui sicuramente sì. eh domenico da quando seguo il tuo canale non riesco più a ascoltare gli altri terzi che la SBC mi fanno sonno ma oddio sai io ti dico che sinceramente come ho già detto tante altre volte ci sono per esempio dei trader molto più bravi di me che voi non conoscete eh io quello che mi inorgolisce questo ve lo voglio ribadire che i miei amici top trader trader che hanno fatto milioni di euro eh negli ultimi vent'anni e non uno o due milioni eh hanno comunque grande stima di me perché sanno che sono tutti i giorni sul mercato e sanno il lavoro di formatore che ho fatto negli anni ho iniziato con Millennium Sim nel duemila e quindi non è da poco tempo che insegno a fare trading e eh non ho mai lavorato anche se potrebbe sembrare un paradosso con l'obiettivo di guadagnare dei soldi dalla mia attività di formatore eh come invece molti miei colleghi fanno e e questo dagli altri trader è molto apprezzato perché comunque eh io ho sempre provato a guadagnarmi la pagnotta facendo trading poi magari ho avuto risultati meno brillanti rispetto a loro però per questo motivo mi hanno sempre rispettato tanto eh ironic eh no beh allora non ti posso dire tutto di Emerick se no poi mi eh banna da classi NBC questo te lo posso dire lui è un trader eh intraday e molto attento agli stop questo te lo posso dire eh il Bund scenderà ancora domenico e guardo se ce l'ho qui al volo perché se non ce l'ho non ti posso rispondere adesso perché eh io non lo trado eh per cui guarda non ce l'ho il grafico qui credo fammi vedere non credo di averlo al volo per cui magari quando mi mandi la mail scrivimelo così mi ricordo di guardartelo perché io faccio trading su azioni italiane per cui quello che non trado eh sinceramente me ne interesso eh poco eh Beppe ti ringrazio ma eh sappiate che io sono molto presuntuoso e molto ecocentrico però paradossalmente sono anche molto umili e se voi mi fate notare un qualcosa che non so io ne prendo atto perché parto da questa concezione che io conosco bene eh 300 società quotate però all'interno di queste 300 voi ne conoscete alcune molto meglio di me perché magari dedicate eh il vostro interesse a un numero più ristretto e su questo numero più ristretto ne sapete più di me eh Claudio oltre al P e guardo al rapporto fatturato utili basso debito sì no no certo certo Claudio assolutamente ecco scusate devo segnalarvi un altro infiltrato Alberto eh a questi prezzi D'Amico ti sembra sopravvalutata mi chiede allora D'Amico non è sopravvalutata assolutamente perché è tornata all'utile quest'anno rischia di fare 100 milioni D'Amico però il problema di D'Amico è che è veramente molto tirata come grafico per cui se torna a 0 eh 31 e mezzo direi magari anche 0 30 io entro eh adesso voglio che scarichi un po' l'ipercomprato però non è non è cara perché sì è un debito di 453 milioni vado a memoria però è una società che mi piace molto eh Domenico quanti titoli segui al giorno ma un centinaio almeno sì ah cioè io ne seguo 300 per tutto l'anno poi e sono io lavoro su 300 titoli tutto l'anno poi in un mese magari lavoro su 50 o 100 a seconda di come si muovono ma se sei tu adesso non mi ricordo che vuoi entrare a mia scuderia scoprirai eh eh intesa se i tassi di interesse eh ma ma non è che è sopravvalutata Giuseppe però indubbiamente le banche potrebbero anche eh correggere perché secondo me non è stata ancora affrontata seriamente la questione NPL eh Marco come si può riprendere notizie di mercato eh online visto che non è sempre possibile grazie eh lì il numero uno eh è ovviamente Livio dovresti chiederlo di più che meglio uso solo due siti di notizie il problema è che Borsa Italia sarebbe anche efficiente ma è in ritardo per cui devi dotarti di qualche servizio a pagamento ne abbiamo già parlato anche due sabati fa Blomberg purtroppo costa 25 mila dollari l'anno noi usiamo eh siti eh a pagamento ma più economici però eh purtroppo bisogna pagare per avere notizie in tempo reale ehm eh Fope gran gioiello dice Jordan eh Jordan Fope è un vero gioiello però non ce la fanno più toccare per me questo qui ecco vedete Livio quasi due ore costantemente succede che diciamo che sei un discreto analista sì ho capito e tu sei un discreto trader però sei diventato un po' troppo diciamo volatile come trader Claudio mettete like ad Andrea siamo a 99 vediamo se lo posso no io non lo posso mettere perché almeno a 100 fateci arrivare dai scherzo non è importante eh Mario merita almeno 500 ma sai eh allora magari col tempo ci arriveremo anche però eh oggi mi sono imposto di non parlare male dei miei colleghi però questa cosa fatemela dire la mia amarezza quando ogni tanto vedete che ho qualche sfogo è che purtroppo io da trader esperto vedo che la maggior parte dell'offerta che c'è online eh su YouTube eh gli youtuber che ci sono in finanza secondo me si vede lontano un miglio che non fanno trading e vi vendono oltretutto dei servizi a pagamento costosissimi eh per cui eh questa è un po' la mia amarezza perché non danno un buon servizio probabilmente si arricchiscono alle spalle di chi paga loro dei corsi e le persone che pagano poi ne escono secondo me con eh con l'ammarico di aver pagato dei soldi e aver imparato poco nulla eh Carlo ci saluta eh lo saluto anch'io eh ah allora no allora eh ehm Isalle perché i titoli usano l'otto minimo allora qui la storia è abbastanza lunga eh cercherò ovviamente di essere breve una volta c'era l'otto minimo in borsa per tutti adesso è un eh criterio che viene utilizzato solo nel mercato AIM che oggi si chiama Growth Italia e solo per pochi titoli perché viene usato secondo me andrebbe ripristinato perché l'otto minimo ti tutela soprattutto sui titoli sottili da quella che è la battuta eh di un'azione per allargare lo spread perché quando c'è grande spread di book magari c'è tra denaro e lettera anche un tre quattro per cento e ovviamente eh se fai battere un pezzo puoi fare la gara a rialzo o a ribasso lo spread e fare una variazione importante ed è per quello che era stato introdotto il lotto minimo eh ho capito eh Livio eh parliamo di indice questa conoscenza sui massimi sì parliamone però se eh sapessimo se il mercato va su o va giù non saremmo in questa chat oggi pomeriggio eh allora eh Alessandro Landi Renzo purtroppo non mi fa impazzire eh io vinsi a mani basse la scommessa con Emerix quando quattro anni fa uscirono eh col piano industriale debito a settantacinque milioni eh cassa positiva per ventidue milioni hanno ancora il debito di una volta meno male che è entrato Gianni Tamburi speriamo che Gianni Tamburi avvii un turn around sulla società perché i numeri sono ancora eh sottovalutati eh Libio eh 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 altra gamba rialzista secondo me sì eh perché ci faranno chiudere il il mercato eh l'anno con il mercato sui massimi eh almeno di breve periodo perché i massimi del duemila e ventidue di gennaio li vedo un po' impossibili però eh sarebbe meglio che ci fosse una correzione di mille mille cinquecento punti allora sarei più convinto eh poi vediamo eh Jordan Slam da non sottovalutare Gran Cassa assolutamente d'accordo grazie a te Patrizio eh target di OVS allora eh me la chiedete in tanti OVS OVS secondo me adesso eh ha iniziato una fase molto delicata per cui purtroppo la vedo in distribuzione per cui nel breve la vedo eh almeno eh con un ritorno in area due poi è possibile che torni a salire ma al momento la vedo in ritracciamento eh Infineon non la seguo Marco scusami eh Mar invece l'ho già detto mi ha stupito negativamente perché i dati sul sull'ultimo trimestre mi aspettavo migliori però comunque è una società che il peggio mi riferisco ovviamente al periodo covid dovrebbe averlo lasciato alle spalle probabilmente potrebbe chiudere l'anno eh sul test della media mobile a duecento che è tredici virgola tredici poi eh domenico eh sei un grande sicuro la vostra ora sono cinquantaquattro eh beh allora mh domenico io ne ho quarantanove non ho purtroppo avuto la fortuna di seguire la borsa gridata eh come molti sanno io sono un ammiratore di Raul Gardini non ho problemi a dirlo per me eh Di Pietro ha eh abusato del suo potere e non l'ho detto io ma eh è diventato un politico eh di grido e e Report fece a suo tempo un'indagine e mi sembra che da dieci proprietà che aveva dopo Mani Pulite e quindi la carriera in politica è arrivata a cinquanta sessanta forse più proprietà non dico che chi ruba eh non sia da condannare assolutamente però eh Mani Pulite secondo me è stato un qualcosa di poco trasparente io sto leggendo il libro del ventennale di Travaglio Gomez e Barbacetto nonostante non siano ovviamente giornalisti che io amo però eh devo dire che Raul Gardini per me è stato un grande io l'ho sempre ricordato eh e eh le notti passate a vedere il Moro di Venezia quelle non potrà cancellarmene neanche Antonio Di Pietro eh ciao Ironic eh eh ascoltarti ci conviene per certo che è un bel momento grazie Antonino eh eh Danis secondo te sei sicuro che si vengono più intraday con il training eh sì sì beh oddio Danis i miei amici eh facevano ovviamente tutto eh però erano ragazzi che sai quando tutti i giorni fai mille duemila cinquemila fai presto poi a fare i numeri eh e quando hai un capitale non eh pazzesco dall'inizio devi partire per forza con l'intraday eh Marco Andrea sei in una ventata di aria fresca in mezzo a tutti i fuffaguro YouTube guarda ti ringrazio molto io tra l'altro mi sto documentando molto su tutti quei fuffaguro che adesso uno per esempio è passato da Dubai eh a eh Tenerife mi sembra comunque in Spagna perché sono curioso come fanno avere così tanto successo perché io per esempio non comprerei un loro corso neanche sotto tortura eh sono molto onesto intellettualmente sì perché a livello di eh fama a cui sono arrivato io eh potrei guadagnare veramente tanto anche solo facendo il formatore eh e io eh lì ve lo può confermare non mi sono mai fatto pagare un euro per formare i miei eh miei eh allievi eh che fanno trading con me con Giotto Cirino Sim pensate che ne ho avuto più di mille in vent'anni se mi fossi eh fatto pagare anche solo mille euro a persona diciamo che in vent'anni qualcosina avrei messo da parte però sono contento così perché sono fiero di quello che ho fatto eh tonio tecnoprope ma tecnoprope sì però è un titolo un pochettino difficile da fare al momento è titolo da super training range sei e settanta sette settanta lo si trada dalla morte però è un bel titolo sì Giancarlo questo lo caricheremo dai eh poi vediamo eh dopo Epifania Cristian eh se non cambia nulla Long Vix beh allora sì 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 questo ci sta eh petrolio short eh sì mi piace la tua idea di trading Cristian eh GWS eh allora non Stefano te lo dico GWS però non la stiamo facendo neanche noi perché eh è un titolo veramente che dopo il meno trentotto quanto ha fatto meno trentotto e sesantotto il dieci novembre e comunque i livelli te li do il supporto è tre e trenta la resistenza è più o meno quattro e zero cinque quattro e zero otto però massima prudenza perché a me non è piaciuto come si è mossa la società ehm Dario quello che è importante è il rapporto tra iscritti e like se vogliamo dirla tutto ehm il canale è ancora piccolo ma su una live sono sempre bassi ma guarda io farò due live al mese eh la prossima sta tra due settimane e ho già un argomento molto interessante eh ve lo spoilerò eh vorrei parlare dell'uso dello stop loss perché molti di voi secondo me non lo sanno utilizzare realmente eh e ci viene bene uno speciale video che caricherò il venerdì e poi faremo la nostra live eh io l'unica cosa che vi posso dire è che non ricorro ad artifizi che vedo il vicino di casa e coescrivimi al mio canale YouTube ai miei parenti a parte che la mia famiglia purtroppo ve l'ho già detto è decimata io non ho più entrambi i genitori da tantissimo tempo eh non ho nonni non ho quindi insomma eh ma neanche agli amici l'ho detto fondamentalmente per cui siamo pochi ma i numeri sono reali ecco questo sì eh Alberto spero che questa diretta sta disponibile integralmente credo proprio di sì eh perché a meno che non commetti io degli errori tecnologici la caricheremo monumentale diciamo che sei fine esagerato eh Antonio come eh leggere la parità di unicredit ma secondo me unicredit di breve dovrebbe essere finalmente un po' arrivata eh io credo che il titolo fino a 12 e mezzo ci possa scendere ma al momento è una normale presa di profitto eh consiglio Andrea quando rispondi legge la tua voce domande perché essendo sfalsate rispetto a quelle visualizzate non sappiamo a cosa rispondi eh ti ringrazio Danis ma sai io sono un po' limitato a livello informatico però lo farò eh Frank spero che tu riesca a trovare il tempo per questi podcast per il periodo di mercato che ci arriva ogni giorno per me questi appuntamenti sono in età di sacri ma sì devo dire assolutamente sì eh allora ecco oltre al 2023 Frank non lo so perché eh devo poi partire con la scuola di trading ehm probabilmente farò altri progetti imprenditoriali eh sono sincero eh ho già fatto questa battuta non so se l'ho fatta anche voi mi sento molto come Franco Battiato eh quando è passato dalla musica psichedelica a fare diciamo album tra virgolette per il linguaggio di Battiato più commerciali e si chiuse in credo Garage Force e fece la voce del padrone e fece un milione e mezzo eh di copie vendute circa eh nel 1982 fu l'album più venuto dell'anno 1982 per me è stato un anno incredibile con la vittoria dei mondiali adesso mi fa ridere che fanno vedere in tv la 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 eh vittoria del 2006 ma per me è proprio stata poca cosa rispetto al 1982 io vi dico la verità cioè sì ho festeggiato ma vi dico che la gioia che mi ha dato il 1982 è assolutamente imparagonabile e mi sento un po' molto come Franco Battiato sinceramente vorrei cominciare a avere anche delle soddisfazioni eh professionali di un certo tipo per cui mi strutturerò per averle per cui non so se riuscirò a mantenere in vita il canale YouTube questo ve lo voglio dire però anche se dovessimo crescere poco a proposito non l'ho detto a nessuno adesso sta andando via anche un po' di gente chi non si fosse iscritto al canale si iscriva perché ho trovato una funzione bellissima che possono interagire solo con me nei podcast nelle chat live volendo solo iscritti al canale quindi attenzione che il prossimo podcast lo farò ancora libero a tutti poi sarà sempre libero ma l'interazione volendo posso decidere che sia eh fatta solo con gli iscritti al canale quindi iscrivetevi perché poi ovviamente potrei utilizzare questo jolly allora vediamo eh grazie Frank perché eh faccio gratuitamente questo per tutti voi eh è vero eh sì ma io farò il formato io faccio già il formatore dal 2003 praticamente eh però farò la mia scuola di trading per cui sarà probabilmente il mio primo lavoro poi Livio mi ha deluso molto perché eh volevo già cooptarlo come docente mi ha detto che lui non lo vuol fare il docente per cui dovrò pure trovarmi i docenti eh eh Dario Andrea dai che fa molti eseguiti in tre come imposta la tua giornata beh allora mi sveglio alle sette meno un quarto adesso ah tra l'altro eh no non ve lo questo non ve lo posso dire ci sarà una sorpresa per Natale però eh vi posso dire che un tempo mi svegliavo ancora prima adesso sinceramente sono molto stanco eh e non sono stato bene non sono ancora guarito per cui eh mediamente mi sveglio eh dal martedì al venerdì alle sei e alle sei e quarantasei eh quarantasei perché l'anno nasce dai miei genitori per cui sono ancora molto legato a loro allora metto sei e quarantasei il lunedì mi sveglio alle cinque quarantasei perché devo preparare la newsletter prima ehm e poi vabbè eh Dario l'ho già spiegato eh io faccio il pescatore dalle otto alle nove comunque poi ci sarà una sorpresa dove spiegherò veramente quello che faccio eh il livello di stop loss deve intervenire ma allora glielo posso anche chiedere siamo veramente molto amici però lui fa molto il prezioso quando mi chiama a mercati aperti per rompermi le scatole che sono in chat con i miei allievi devo silenziare il microfono perché non devo far sapere che lui mi chiama non vuole che gli altri sentano quello che ci diciamo per cui fa un po' il prezioso però glielo posso chiedere Giancarlo bravo stop loss e train stop sono un argomento essenziale ma sì sì eh assolutamente eh è un altro speciale molto interessante Davide nella media tempistica per venire profittevole dipende io credo di essere un acceleratore senza di me ci metteresti tanto tempo con me in tre sei mesi potresti anche eh diventarlo Fabrizio grazie Andrea per queste due ore è utilissimo la mani che forza farà le clerche via binotto allora speriamo guarda io ti dico l'ho già anche detto il mio amico Fabrizio che non si occupa di trading è praticamente ehm il responsabile eh di un lo cito intanto del Gerard Caffè a Monaco la Fonghiel e la madre di Charles ha il negozio da parrucchiera vicino a poche centinaia di metri per cui spesso Charles va magari a prendere la caffè anche solo una bottiglietta d'acqua da lui e eh non posso dire che sono amici ma si conoscono per cui non vedo l'ora di riuscire a tornare a Monaco eh per conoscerlo di persona perché io ho grande ammirazione per Charles perché ovviamente corre nel modo in cui piace a me eh binotto se sarà sostituito a me fa piacere perché secondo me quando uno non tiene risultati è giusto che paghi in prima persona le candele giapponesi Antonio sono molto importanti eh però eh c'è chi trada ovviamente con le barre per cui io sono abituato a queste ma eh l'importante è saper analizzare un grafico Paolo ringrazio te Cristian eh sì un'arma doppio taglio eh sì però se lo fai di lavoro lo stop loss lo lo utilizzi sempre eh Payor se arriva al fiume vedi qualcuno che ha fame non regalare un pesce ma insegnare a pescare sì però eh è vero ma attenzione che io contesto questo aspetto a molti miei colleghi se voi non fate trading che diritto vi arrogate a farvi pagare per insegnare a fare trading secondo me trading dovrebbe insegnare solo uno che è regolarmente sul mercato eh no ma allora eh Luigi la newsletter è un'altra cosa parlavamo del canale YouTube eh il canale YouTube se non sarà cresciuto eh secondo certi numeri io ipotizzo magari non so per darvi dei valori cinquemila iscritti diecimila iscritti eh perché per me è sminuente vedere uno YouTuber che con tutto rispetto eh di finanza eh operative molti comunque si vantano di fare finanza operativa eh non mi lega neanche le scarpe può avere questo successo eh il mio ego non lo può sopportare vi chiedo scusa eh Gianni faremo la scuola di trading sia in presenza che a distanza eh da remoto la faremo nel duemila e ventitré che sarà una sorta di esperimento per il duemila e ventiquattro sarà anche in presenza eh grazie Samuele eh sì esatto una volta mi alzavo anche le quattro e quarantacinque ma lì la storia è lunga eh magari una volta vi dirò anche perché eh eh Vito non sono molti che dedica un sabato pomeriggio eh grazie mille per quello che appena eh che fa appena di insegnarci un po' di trucchi sul trading ma allora eh io mantengo sempre le mie promesse inizialmente volevo fare eh un eh webinar al mese eh poi visto che il primo anche se non l'ho potuto pubblicare è stato di grande successo eh perché è piaciuto molto molti mi hanno chiesto chi è seduto staccare perché penso che adesso sia giusto farne due perché ovviamente eh essendo così apprezzato penso che sia un bel valore raggiunto Marco quando seguo alcuni tre su CNBC non riesco mai a individuare i valori ma no Marco capita anche a me ti dico la verità eh io semplicemente uso time frame giornalieri settimanali mensili e i livelli li rilevo li li prendo lì poi io uso sui titoli liquidi soprattutto anche l'ombra eh magari sul titolo più sottile è meglio usare il corpo solo certe volte però purtroppo la penso come te eh sì Giuseppe esatto lo scopo è questo eh faremo uno speciale sullo stop loss e come gestirlo eh Michele deve abbandonare ci saluta benissimo Giovanni ringrazio io te eh no vabbè allora questo Massimo l'ho già detto tante volte io lo stop loss il 99 per cento eh dei dei casi eh lo eh applico eh alla fine della giornata perché non voglio prendere eh eh diciamo i falsi segnali eh perché c'è una categoria di investitori che si chiamano Bergen Hunters che sono praticamente i cacciatori di stop che aspettano proprio eh questi questi momenti per farti stoppare e poi il titolo va eh dall'altra parte eh ovviamente ci sono dei casi limite eh perché GWS stoppava ogni volta quando il titolo andava la giornata meno trentotto in asta di volatilità e questo mi ha fatto mi ha permesso di guadagnare eh una una malessa somma e di non perdere soldi eh Gigio la scuola di tre in quale città allora io eh ho un bell'ufficio qui però eh posso ospitare solo quattro persone adesso è chiuso al pubblico qua al piano sopra c'è un bellissimo attico e verrebbe una bellissima eh location però credo che farò Milano farò Milano dovrò fare se decido di farla la settimana corta a Milano domenica sera arrivo a Milano e vado via il venerdì sera e devo dire che un po' mi scoccia perché tutte le volte che vado a Milano mi eh eh ammalo Livio ci saluta perché va a smaltire il sushi devo dire che mangia più sushi Livio di quante patatine e snack tipo riders e similari mangiavo io da bambino Mario guarda che spesso il numero di iscritti è fittizio nel senso che il professore non opera in borsa e l'allievo tantomeno sì però sono sincero per il mio ego è una bella umiliazione eh Alberto se il mio DLF preferito eh però non so cosa voglio dire DLF scusa la ignoranza eh Frank saluta Livio eh sì Alberto è vero adesso purtroppo non bevo quasi più caffè perché ho avuto qualche problema di salute dovrò perdere peso in quelli speciali pesavo 20 chili meno di adesso però ho dovuto subire negli ultimi anni anche talmente tanti incidenti di percorso che eh purtroppo un po' li paghi eh Giovanni ci ringrazia Giancarlo sul numero di iscritti scriverò poi un commento sotto un video perché c'è poco spazio volevo scriverlo tempo fa no Giancarlo mi una mail a info chioccia andrea cartesano punto it e la leggerò volentieri eh eh oddio eh domenico secondo te si può fare trading se è un lavoro ordinario che ti ho potuto ricevere il giorno guarda me lo chiedono in tanti eh il problema è che eh anche un mio allievo allora dovete pensare una cosa tutti pensano che io abbia mille clienti io credo di averne una cinquantina che fanno trading con me da quando sono passato a GiottoCini GiottoCini perché io sono coerente se vi dico che me lo chiedete in cento a c'è una volta anche duecento persone e prendo solo venti venticinque l'anno è quello che ho fatto però eh perché tanti li scarto perché comunque eh io dico sempre se non hai del tempo da dedicarci cosa vieni a far trading con me cioè perderesti tempo tu me lo perdo anch'io ci vogliono almeno tre quattro ore al giorno quello sì purtroppo sì e soprattutto dalle otto e mezza alle dieci e da quando apre il mercato americano in poi o dall'ultima ora fino almeno a chiusura il mercato diurno eh Fabrizio complimenti grande professionalità e impegno ringrazio te eh Domenico eh Italo Polimeni è certo che me ne ricordo ne ho parlato una volta in una diretta su class che io mi ricordo non mi ricordavo il nome di battesimo di Siparero Rettore la famosa newsletter di Italo Polimeni che Eurosviluppo Caribe Company riuscì a farli decuplicare Luca non pensare umiliazioni eh lo so però sai per uno che ha sofferto così tanto come me nella vita perché ho perso i miei genitori giovanissimi mia madre a 53 anni mio padre a 60 che non si è mai approfittato dei suoi clienti ha sempre fatto formazione gratuita ad alcune persone anche cambiato la vita per chi ho creato 5 top trader tra i quali Livio ehm vedere in rete che prolifera e non parlo dei fuffaguru da Dubai che sono un'altra cosa ma anche tanti tanto ammirati uno che ha 120.000 iscritti un altro 75.000 un altro 50.000 quello da 50.000 ha mandato il risultato dei suoi segnali un ragazzino giovane lo ha contestato e gli ha detto ma guarda che non si se tradi con 10.000 non è che se fai più 20 meno 10 più 30 fa che hai fatto più 50 per cento perché devi calcolare sul sul progressivo eppure ha più di 50.000 ehm diciamo iscritti ha molto seguito e per me è quello umiliante è un'umiliazione alla mia professionalità ehm ciao ehm Davide eh verrai a Milano in bici no quello 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 no perché il mio sogno è che se dovessi creare tutto quello che ho in mente e avere magari una casa molto bella con un angolo palestra in casa e e diciamo sicuramente uscire magari poco perché ottima di Milano purtroppo lo patisco tanto ehm Alberto a eh DLF ah ok no perché non capivo riferito al trading infatti adesso dopo lavoro a Ferreira lo conosco ovviamente eh sono Ferreira che sia stato presentato lì sono contento di questo Davide saluta anche da parte mia tua moglie ehm ma sai Marco due territori al giorno si può definire trader ehm sinceramente non è una questione che io ne trado 20 sono un trader tu ne tradi tre ehm sono sono diciamo ehm rispetto a te chissà che cosa conta la profittabilità Filippo non commento i nomi degli youtuber che non possono difendersi eh i 10.000 iscritti sulla borsa italiana non si non si fanno uguali eseguiti ho capito ma credimi che non è questione di borsa italiana è questione che ehm è l'approccio al mercato che manca se una persona ti vende dei corsi da 4.000 euro ciascuno e ti vende corsi per il trading su azioni tra in su obbligazioni trading eh in opzioni eh quello su commodities su derivati su criptovalute credimi c'è qualcosa che non va tutto qui eh Italo Polimini Polimini eh non Polimeri eh e facciamo una trasmissione nota tv lombarda sì può essere un precursore però diciamo che era un po' borderline Alberto cosa comporta entrare nel tuo gruppo eh ma eh comporta l'unico ecco l'unica cosa lo voglio dire che per gestire il gruppo ho fatto una dittatura democratica nel senso che io sono un dittatore nel senso che decido io eh come si come si diciamo eh gestisce il lavoro del gruppo però uno può uscire in ogni momento però non sono di certo un dittatore sanguinario eh se vuoi avere informazioni mi scrivi a info chioccio andrea cartisano punto it fino a fine duemila e ventitré farò tra l'altro ai miei allievi formazione gratuita eh Luca onestamente sono persone che mi stia ma non solo comunicatore perché questo qua eh che ho citato prima credo che facesse l'informatico però eh sinceramente ha un successo incredibile bravo lui eh però diciamo che in ambito conoscenza dei mercati trading ecco in rete non ho da imparare da nessuno questo ve lo voglio dire chiaramente eh permettetemi questa punta di produzione i miei amici che non vedete in rete sono molto più bravi di me ve l'ho sempre detto eh Jordan IGD e Viso so eh ma ho capito ma tutti tiri fuori sempre i giolli IGD però attenzione che c'ha questo debito di più di un miliardo di euro eh ma no ProRealTime mi piace però mi piace non per fare trading perché una volta credo che si potesse fare anche trading con ProRealTime eh potetevi addirittura comprare sul grafico io uso un software esterno per l'analisi tecnica e uso invece Sfera per fare trading però non eh Alberto e ho capito Alberto Alberto scrive mi preme farti sapere che avendoci conosciuto ho apprezzato la tua competenza chiarezza e trasparenza però Alberto è nel mio gruppo che tutti i giorni si ritrova in chat vocale Skype per cui prendete con le pinze le sue affermazioni perché potrebbero anche eh essere diciamo di parte o meglio sono di parte in portafoglio di Jordan BFF intese Mediolanum eh ma ho capito ma tu eh eh sei sei un cecchino quindi è difficile che tu sbagli eh sì Mario eh questo è l'unica cosa che chiedo eh io non mi faccio pagare per insegnare eh chi entra nel gruppo apre un conto trading con Giotto Cilino Sim piattaforma Sfera Advance fino a fine anno c'è la promozione per la piattaforma gratuita l'eseguito a due euro e mezzo dal primo gennaio l'eseguito sale a tre euro eh e hai compreso nel pacchetto se vieni seguito da me tre mesi di eh chat live vocale su Skype tutti i giorni e il sabato ehm facciamo oggi non l'abbiamo fatto perché i miei allievi mi hanno concesso una mezza giornata di ferie perché non sto benissimo eh e praticamente ehm eh normalmente facciamo ogni sabato mattina il webinar eh preparatorio alla settimana successiva eh due euro e mezzo sì eh però solo fino a fine anno eh eh in promozione eh praticamente tre euro eseguito ma guarda che lo scalping eh eh non esiste più come esisteva una volta ok eh nel senso che eh anche se c'è uno youtuber in questo caso bravissimo che ha criticato Emery che parzialmente anche me io eh ho conosciuto tutti cioè il più bravo eh la più eh importante scuola di trading eh intraday italiana al di là di Millennium Sim di Prop Trading è stata la safe di Milano io bravi come Ivano ne ho conosciuti pochi Ivano faceva qualche milione ogni anno ma perché perché il mercato italiano scambiava più di cinque miliardi di euro al giorno i tic sui titoli erano diversi e loro avevano un pacchetto con Fineco dove pagavano un euro a eseguito di media ok quindi non è un problema dei tre euro perché oggi io faccio magari cinquanta cento eseguiti al giorno ma un mio allievo ne può fare anche dieci venti e non fa scalping fa trading intraday Frank quando aprirai la tua scuola ti dici a noi parla di tre meno volte sono già in ansia e adesso Frank innanzitutto io pensavo che fosse un nickname il tuo perché quando ascolto gli oasis alzo il volume in macchina questo eh fa fa fammelo dire Giuseppe mi fa piacere aver partecipato a direttamente sono contento eh tra l'altro scalping eh allora guarda ehm eh oggi mi ero ripromesso eh ma no allora quello non è vero non è vero Mario poi è ovvio che eh se tu lavori tanto puoi chiedere all'intermediario di farti pagare meno di tre euro però devi lavorare tanto perché Direkta fa pagare cinque Fineco fa pagare dieci con Fineco puoi scendere forse a due novantacinque però con tutto rispetto né Direkta nel Fineco ti danno Andrea Cartisano che ti insegna a tradare insomma penso che tre euro eseguito eh di valerli ok eh Marco dicevo scalping the bull eh io penso che lui sia bravissimo sia bravissimo eh fa mi pare molto cripto ehm però entri a tradare anche molto più bravo di me però eh io considero che lui mi sbagli quando dice che lo scalping lo fa tutti i giorni eh per noi lo scalping eh eh era erano i cento duecento eseguiti al giorno Walter ne faceva cinquecento mille eh e si faceva quel trading perché eh c'era una più liquidità vedevi i codici dei controparti poi però è un trader fenomenale però eh anch'io sto in posizione certe volte l'altro giorno ieri ho fatto GTH Ambientes oggi si chiama Grandes sono stato in posizione 30 secondi eh però eh sinceramente eh non è che meritino uno scalper eh lo scalper Ivano di cui vi ho parlato faceva denaro lettera su unicare a fare scalping ok long short oltretutto eh però magari poi ci ritorneremo però io ci tengo a dire che nonostante abbia attaccato il mio amico Emerick credo che scalping the bull sia veramente molto bravo eh forse eh online eh uno dei più preparati in assoluto perché ho visto i suoi risultati per cui tanto di cappello ehm eh un ragazzo intanto nel gruppo ma allora dipende io ho questo ragazzo Riccardo che adesso è con me da qualche anno eh prima faceva tre in solo pomeriggio quando tornava alla scuola adesso ha ventitré anni uguale né più di me per cui non c'è una risposta un invio che Alessandro può essere qualche mese come chi non ci riesce neanche e di Vito paga 9,95 eh quindi esiste ancora safe eh eh ah no 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 scusami eh safe no non più non più perché quando sono cambiati eh i tic e si sono ridotti gli scambi su Borsa Italia safe ha iniziato a operare sui mercati esteri eh Germania Spagna Francia forse qualcosa in Olanda poi Polonia e Norvegia e poi ha chiuso eh Marco potresti prima del 21 cembre di creare uno spazio per spiegarci Sfera a Giotto no per spiegarci Sfera Giotto è un distributore di Sfera eh Domenico sono le tre ore più belle la settimana eh adesso non esageriamo dai eh Marco sì ho visto che fa molto 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 cripto eh però siccome lui è bravissimo eh non vedo l'esigenza di eh attaccare quelli che eh concepiscono un trading diverso dal suo cioè siccome è noi pochi professionisti seri rimasti e lui sono convinto che lo sia eh che facciamo regolarmente trading dovremo a limite prendercela su quelli che sono i fufa guru quello sì ecco noi dovremmo coalizzarci e fare una battaglia contro di fufa guru e purtroppo il novanta per cento di quelli che sono in rete sono fufa guru eh Massimo diretta è gradevolissima ti ringrazio molto eh cosa pensi eh di Tots beh Tots perde il 37% inizialmente principalmente perché della valle si è ritirato dall'Opa eh per cui era a quanta euro quindi Giancarlo eh sì esatto lo scalping ma in realtà da molto prima perché i tic hanno già iniziato a cambiare molti anni prima eh la liquidità è diminuita già da dopo Lima hanno già spiegato il problema BATS Turquoise Chinix TLX CFD e per cui non ha più senso gli algoritmi eh quindi comunque hai ragione hai ragione per quello che Emerick eh si è scontrato con scalping the bull ma secondo me non perché mio amico ha ragione Emerick perché lo scalping sull'azionario italiano e Emerick parlava di quello non è più possibile grande macchinetta 3 euro non son tanto eh no beh 3 euro secondo me è una buona commissione perché mi risulta che Direkta parta da 5 solo per quello poi io ho scelto allora dovete sapere una cosa io ho un contratto con Giotto se avessi firmato con un altro intermediario mi avrebbe pagato il triplo di quanto mi paga Giotto eh io ho scelto Giotto per la piattaforma Sfera e poi perché conoscevo l'amministratore legato che è una persona assolutamente per bene eh la sim eh era una sim della quale io ero già cliente fin dalla nascita eh ma allora eh Marco io sai non facendo cripto non so giudicare però ti ripeto eh lui ha molto successo e il suo successo credo che sia eh meritato eh Mario pensiamo a noi ma sai sì però secondo me eh ci sono dei eh degli youtuber di successo che come vedo io il trading gli investimenti sono paragolami a fuffaguru ma la gente non lo capisce eh oddio Luca Locarini sì ebbe grande successo a fine anni novanta sicuramente l'ho perso di vista credo che sia preparato assolutamente eh ma può essere che sia uno schema Ponzi adesso non lo so eh scusami però Augusto Ansaldo eh non capisco a cosa tu ti riferisca perché non è più quotata da tempo in borsa Ansaldo eh WeBuild ne ho già parlato tante volte ottima società ma debito mostruoso ha questi backlog pazzeschi questo posto fuori l'ordine pazzesco ma poi alla fine è sempre lavorata dal debito ci sono dei percentuali domenico da dedicare a ai titoli in base al capitale disponibili sì esatto può essere giusto però magari dipende dal capitale perché se hai purtroppo solo ventimila euro eh in Sdama puoi metterne anche tremila che è il quince per cento eh Michele domanda interessante chi ha voluto la polverizzazione dei tic? Tante volte penso che abbiano dato fastidio ai trader questo lo voglio dire chiaramente Fausto ti saluto anche perché poi tra poco siamo in chiusura non possiamo fare proprio quattro ore eh io ho seguito la trasmissione era con Lapidari lui ha ha solo liquidato la cosa troppo in fretta ah sì sì Giancarlo ho capito ma sì ma Emery comunque non perché mio amico è molto preparato di finanza è forse il giornale sto più preparato per cui secondo me ha detto una verità lo scalping non è più quello di eh preliman ecco usiamo questo eh allora no allora funziona così eh Marco mi devi scrivere in privato perché ti devo spiegare perché hai una serie di vantaggi aprire il conto con me eh rispetto a prenderlo direttamente e sono ovviamente vantaggi di costi eh e comunque mh se mh nell'iscrizione al canale al al sito eh che è Giotto Cino Sim spunti nel menu a tendina il mio nome e cognome perché io sono anche un consulente finanziario scritto all'albo praticamente succede questo che io sono autorizzato a seguirti e di conseguenza se hai un problema ti rivolgi direttamente a me e poi eh ma allora eh Augusto eh scusami Ansaldo se faranno l'IC sinceramente non essendo più quotato in borsa io eh non eh cioè non essendo quotato in borsa perché poi era quotato in borsa stando trasporti non me ne interesso ti chiedo scusa esatto Fabrizio eh Enel aveva il tic a zero zero cinque eh purtroppo Fab i titoli come radici scambiano talmente poco che mh sinceramente eh anch'io mh per esempio è un titolo che non guardo più per cui se un titolo scambia sotto certe soglie vi consiglio di non guardarlo proprio più eh Alberto perché il debito è così nocivo per la quotazione in borsa è perché riduce la marginalità soprattutto adesso perché se io ho un debito eh che mediamente mi costa il 5% se ho 100 milioni mi costa 5 milioni se ho un miliardo mi costa 50 milioni eh domenico cosa penso di Paolo Serafini eh Paolo è un amico però ehm non eh avevo detto che non avrei più espresso giudizio sui miei colleghi eh perché comunque voglio pubblicare questo video per cui eh eh evitate magari di farmi eh questi queste domande perché eh su Paolo non ho problemi perché ripeto è una persona che stimo eh però magari c'è qualche mio collega che stimo meno e non voglio eh giustamente creare problemi però il mio giudizio sappiate che non è per invidia perché io sono quello che guadagna meno di tutti eh di quelli che vedete in tv eh perché io ho fatto la mia scelta non ho mai perseguito questa corsa alla formazione a pagamento ne vado fiero eh molti altri miei colleghi non hanno fatto è una loro scelta io quello che contesto è che secondo me molti eh fanno formazione a pagamento senza stare sul mercato eh sì Alberto però per Bion una volta parlare male era 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 una roba incredibile eh ciao Francesco buon lavoro ma non è questione eh ecco Marco Sant'Ambrogio proprio non lo conosco sono sincero però vi garantisco che i più bravi trader d'Italia sono in Liguria e a Milano sì Domenico sono più pericolosi perché scambiano molto poco i titoli del growth soprattutto nel duemilaventidue nel duemilaventuno ha scambiato abbastanza come valuti di scambi concorrati sui titoli eh ma oddio come li valuti non mi fanno impazzire però se eh c'è una comunicazione eh eh trasparente le normative vengono rispettate per cui dobbiamo accettarli. Luca eh eh cosa ci guardano le società realmente se aumenta la capitalizzazione? Beh allora innanzitutto se aumenta la capitalizzazione normalmente le società hanno margini maggiori e banalmente utili maggiori poi se arrivi sotto certe soglie sopra certe soglie di capitalizzazione tu entri anche nel paniere principale che è il Futsimib e sopra ulteriori soglie eventualmente entri anche nell'Eurostox 50 quindi questo significa che i gestori sono quasi obbligati ad acquistare i tuoi titoli perché tu fai panierte fai benchmark quindi per questo che una società ha convenienza a crescere in capitalizzazione eh no beh Domenico Paolo trada da venticinque anni un trader profittevole per cui nulla a dire ehm sì Fabrizio va bene questo sicuramente sul debito occorre vedere sia il costo che la gestione caratteristica perché la società potrà usare esatto eh ciao Mario eh vuoi sapere se Giotto è solida? Gigio confermano però penso di sapere sì il proprietario di Giotto è un cavaliere del lavoro la cui azienda eh fattura quasi un miliardo di euro eh per cui diciamo che Giotto è piuttosto solida e poi comunque eh eh è praticamente ehm importante lo è Giotto ma lo sono anche tanti altri intermediari tutti quelli o meno male il diritto italiano è aderente al fondo di garanzia di banche e sim ed è sotto legida eh di Banca Italia Consob quindi voglio dire è poi quello che conta. Giancarlo vedo i video di Vontober con Riccardo dei Signori anche lui i suoi ospiti hanno un bel servizio. Su questo non posso proprio esprimere un giudizio perché io non li vedo mai perché al mattino faccio trading ovviamente vedete che non pubblico mai dei video dopo le otto o prima delle diciassette e trenta eh e di conseguenza eh non posso giudicare. Ciao Paolo eh ciao Alessandro oddio io non lo sto seguendo il mondiale. Allora concludiamo con qualche eh nota di colore dai che siamo già a due ore e trentotto poi così vi saluto. perché non seguo questo mondiale? Perché a me il calcio non mi appassiona più. Io il calcio eh lo seguivo negli anni settanta e ottanta e eh conosco tutti i giocatori del passato. Vedete qua l'ho anche fatto questo libro per esempio. Vedete? Ecco se mi parlate di lui eh vedete lui ecco lui per me è un mio mito. È un mio mito Johan. Johan che ci ha lasciato già qualche anno fa classe 1947. Mi commuovo quasi a parlare di Johan Johan. Come per me ha rappresentato tanto Michel Platini. Io sono convinto che abbia sbagliato ma per ritrovarci infantino non vedo se eh Platini eh non vedo come Platini non potesse essere lui presidente della FIFA. Ehm per cui questo calcio non mi piace più. Non seguo neanche la Serie A. Seguo la Formula Uno principalmente per Charles. Eh poi seguo il tennis ma adesso si è ritirato Roger per cui seguo anche poco il tennis eh e seguo anche poco il tennis tavolo ormai perché è cambiato troppo rispetto a quello che giocavo io e mi piaceva più quello che giocavo io. Quante ore avrei al giorno? Eh dalle sette del mattino alle ventuno tutti i giorni. Eh ciao Monica. Ciao Alberto. No ma tra poco chiudiamo eh anche perché eh grazie Fab e pensa che eh sono anche ancora influenzato. Pensa quanto fosse eh Vonto Belsono Bravi dice Giancarlo come Tony. Beh io conosco Tony Tony lo conosco bene eh al suo pubblico eh lui credo che sia specializzato nei futures. Lapidari al suo pubblico eh però non ho capito se partecipa a a Vonto Bels infatti non vanno oltre 4.000 iscritti. Ah forse me lo dicevi perché io ne ho pochi per cui non mi devo scoraggiare. Eh grazie Orazio eh grazie Riccardo mi sembra che eh vi siate divertiti tutti o meno grossi commenti. Mi dispiace che all'inizio c'era questo ether troll eh troll eh però ma sai Mattia eh ciao Frank e i mondiali 82 io li ho vissuti in mondiali incredibile perché ero eh ero eh praticamente in Spagna quando giocavano i mondiali con i miei genitori per cui ho vissuto quell'atmosfera poi io avevo nella cabina del dello stabilimento balneare il port del Brasile e credo che vincesse il Brasile per cui per quello che è successo poi sai vedi noi ricordiamo tutti Paolo Rossi per il bomber per Pablito eh però per me se n'è andato un grande uomo io penso che Paolo Rossi e forse ancora più di Paolo non me ne voglia eh Gaetano Scirea sono stati due calciatori monumentali eh nel senso che sono stati grandi campioni ma gli uomini sono stati addirittura superiori ai grandi campioni e pensare che abbiano fatto una fine incredibile Gaetano purtroppo temo bruciato vivo in questa trasferta in Polonia per vedere questa squadra di seconda fascia eh veramente è incredibile e Paolo aveva questo male incurabile eh e sinceramente io piango più gli uomini quasi che i campioni Paolo Rossi penso che un altro al suo posto per quello che ha fatto per questo paese poteva andare in giro e fare qualunque cosa per dire io sono Pablito eh Roberto ti devo salutare va bene ti saluto ma saluto anche Monica eh saluto Alberto che è un mio fan eh Roberto comunque ti saluto eh però a parte tutto eh domani vi voglio dire che pubblicherò il video quello relativo all'analisi eh del mercato azionario perché magari qualche aggiornamento lo faremo per sabato prossimo c'è una sorpresa che non vi voglio spoilerare eh e eh noi ovviamente ci aggiorniamo a domani pomeriggio per eh quanto riguarda il nuovo video che caricherò poi eh voglio preparare anche una sezione di titoli che in base a studi approfonditi ciao Antonio eh vorrei eh inserire nel canale come titoli non correttamente magari valutati dal mercato che il mercato di valuta in maniera magari non eh consona e eh l'altra novità che vorrei eh non so quante ne riuscirò a fare almeno una al mese sì eh vorrei iniziare con le interviste a personaggi della finanza italiana eh so che molti di voi vorrebbero che eh tra questi ci fosse anche Emeric glielo posso anche provare a chiedere eh però eh sinceramente eh non so se lui parteciperebbe questo ve lo voglio dire perché è molto riservato eh gli dà quasi fastidio che io parli di lui anche scusate non ho detto eh chissà eh chissà quali segreti perché comunque sa che io ho grande rispetto e stima per lui e lo considero anche un amico però eh a parte tutto eh io vi ringrazio delle manifestazioni di effetto eh che avete eh per me eh perché comunque abbiamo creato in meno di due mesi già una bella community poi non vi preoccupate che non mi farò condizionare eh dal fatto che il canale magari abbia meno successo rispetto a quello che io potevo ipotizzare ho visto prima Giancarlo se non parli di fufa non arrivi a venti venti trenta mila iscritti probabilmente è così però io non è che voglio mettermi a eh imitare gli youtuber di successo io sono questo eh se non vengo apprezzato come loro pazienza però per me avendo avuto questo percorso di vita come vi spiegavo molto particolare molto pieno di ostacoli eh per me l'etica è fondamentale mio padre eh diciamo eh mi ha dato un insegnamento di vita non perché mia madre non meritassero non eccezionale eh opposto a quello che diceva il grande scrittore Stendhal l'onestà è la virtù della gente da poco mio padre mi ha sempre detto cerca di essere onesto qualunque cosa tu faccia indipendentemente dal risultato che raggiungerai eh e io cerco di fare eh ecco di mettere in pratica i loro insegnamenti io eh ho scelto questo percorso di vita e di eh formatore eh eh senza farmi per esempio pagare per vent'anni perché volevo che ci fosse eh un esempio eh dell'insegnamento che mi hanno dato i miei genitori e così so di onorarli eh tutti i giorni e magari eh potrei già essere ricco eh però eh le mie scelte mi hanno reso fiero eh in ogni caso siamo arrivati a due ore e tre quarti direi che saluto tutti ci eh sentiamo in maniera indiretta domani per eh il nostro consueto eh consueto analisi di mercato azionario e fra due settimane arriverà il terzo webinar da molti veramente eh secondo me atteso con trepidazione. Auguro un buon weekend a tutti.